Spero che i ragazzi si veda bene il mio schermo. Allora, Barbara, se ho capito bene, voleva dare una piccola introduzione. Sì, sì, sì. Allora, cominciamo ufficialmente, sono le 10.003 e quindi possiamo iniziare. Allora, io intanto ringrazio il dottor Buontempo per la disponibilità e per aver accettato il nostro invito. E dico accettato nuovamente il nostro invito perché molti ragazzi non lo sanno. L'anno scorso, prima della pandemia, è stato proprio a trovarci a Termoli e lo hanno incontrato i ragazzi del quinto dell'anno scorso. Tra l'altro qualcuno mi ha chiesto di partecipare anche qui per riascoltare di nuovo il webinar. Lo ringrazio personalmente a nome mio, a nome dei ragazzi che hanno organizzato il P-Day, quindi hanno fortemente voluto un incontro scientifico divulgativo, diciamo così, a nome della dirigente, a nome di tutti i colleghi. In particolare volevo sottolineare questo che mi è rimasto dall'incontro dell'anno scorso perché l'ingegnere Buontempo è molisano di origini. Lavora presso l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare a Napoli, se non sbaglio, e collabora col CERN. Però la cosa che mi è piaciuta, insomma, mi è rimasta di più, è che ha aperto le porte del CERN a tutti, cioè almeno teoricamente. Sembrava un posto così lontano, in realtà dopo averlo ascoltato l'anno scorso è diventato un posto più vicino, vicino a noi, vicino ai nostri studenti. E di questo la ringrazio e per questo, insomma, sono anche contenta che ha accettato nuovamente il nostro invito. Le lascio la parola e ricordo ai ragazzi che se hanno delle domande possono porre le loro questioni nel D ed R, dove c'è D ed R. Poi magari il dottor Buontempo spiega meglio. Sì, sì, sicuramente. Allora, io ringrazio Barbara per questa introduzione, confermo che sono molisano, che sono boianese. In questo momento mi trovo a Boiano perché ero rimasto bloccato prima al CERN per il Covid, poi sono sceso a Napoli e sono rimasto bloccato a Napoli per il Covid. Poi per seguire anche gli aspetti familiari di mia mamma che è anziana e che vive a Boiano e gestire anche le parti conseguenziali al vaccino e tutto il resto, mi sono trasferito a Boiano evitando di fare su e giù Napoli-Boiano per non diventare un untore, portatore di virus tra le due regioni. Quindi mi fa ancora più piacere per certi aspetti fare il seminario da Boiano perché penso che per gli studenti l'impatto di avere un molisano che gli parla sia importante. Se poi un molisano sta pure a 80-90 km gli renderà ancora il CERN ancora più vicino, ancora più a portata di mano, come ha detto Barbara. Io sono molto, molto orgoglioso, devo dire, è uno dei miei risultati che considero più importanti, quello che diceva Barbara, cioè di aver avvicinato il CERN al Molise. Io sono arrivato al CERN nel 1989 come laureando e al 90% delle persone che dicevo che lavoravo al CERN, per la mia laurea, mi dicevano, ma è il CNR, non il CERN. Che cos'è il CERN? Il CNR è un centro di ricerca. Il CERN non era per niente conosciuto, ma non solo, questo non avveniva solo nel Molise, avveniva anche a Napoli, anche in tanti altri posti. Bene, oggi ci sono almeno 15 istituti molisani che vengono regolarmente al CERN a fare delle visite guidate, che io, diciamo, ho il piacere e l'onore di aver iniziato e devo dire che questo sta portando anche un bel numero di molisani che si iscrivono con entusiasmo a materie scientifiche, a facoltà come Fisica, Matematica, Ingegneria, Informatica e poi intraprendono questa carriera in questo settore. Proprio lo scorso settembre ho saputo con enorme piacere che un ragazzo del liceo Romita di Campobasso, dove era andato a fare il seminario proprio pochi giorni prima di essere venuto a Termoli, si è iscritto l'anno scorso alla Normale di Pisa, quindi ha vinto la selezione per un numero molto ristretto di giovani studenti, quindi uno poco poco più grande di voi, perché l'anno scorso faceva il quinto liceo a Campobasso, oggi fa il primo anno di Fisica alla Normale di Pisa, è una scuola molto prestigiosa, e mi ha confessato che l'ha fatto anche per colpa mia, diciamolo così, a seguito alla partecipazione del mio seminario. Quindi adesso bando alle ciance, spero che questo seminario sicuramente possa aiutare tutti voi ad avere qualche stimolo in più, a vivere in maniera un po' più piacevole questi momenti un po' cupi di pandemia, di zone rosse e di DAD, perché abbiamo imparato questa sigla che è un aspetto un po' particolare di vivere l'insegnamento. Vedendo gli aspetti positivi, questa DAD ci dimostra anche come si possono fare anche delle cose a distanza, si possono tamponare delle situazioni in emergenza, però questo non vuol dire che bisogna sopprimere la scuola in presenza e il contatto personale, specialmente per i ragazzi dei licei che vivono la fase dell'adolescenza, che è una fase molto importante della formazione, è importante anche avere il contatto diretto. Allora, io vi ringrazio per questo invito, oggi anticipiamo di un giorno, visto che domani è il Pi Greco Day, questa è importante giornata. Pi Greco è un numero affascinante, un numero particolare, per alcuni è considerato anche un numero magico, è un numero irrazionale, è un numero che ha infiniti numeri, che nasconde già dentro la sua struttura il concetto di infinito, e al tempo stesso è un numero molto concreto, è un numero che ci dà il rapporto tra il diametro e la circonferenza di un cerchio, che ci definisce il concetto di piramide perfetta e troviamo con estrema curiosità e con estrema interesse un rapporto di Pi Greco, almeno le prime due cifre decimali, per l'altezza della piramide di Cheo, per rispetto al perimetro dei suoi lati. È un numero particolare e quindi sono molto onorato di poter fare questo seminario nel giorno del Pi Day, perché a parte, come dice il piccolo logo che ho messo lì sopra, il 14 marzo era anche il compleanno di un certo Albert, che avete tutti riconosciuto da quella vignetta. È un giorno che, secondo me, calza molto bene anche per la fisica delle particelle, perché vi vorrò mostrare alla fine di questo, spero di avervi convinto alla fine di questo seminario, che la fisica delle particelle, come Pi Greco, non è un qualcosa così astratto e normale, e per quanto anche la fisica delle particelle abbia infiniti numeri nascosti dentro, poi ce la ritroviamo nel cuscotto della macchina, in cucina, nel cellulare che abbiamo in tasca, o nel computer che adesso state tutti utilizzando per collegarvi. Allora, io sono Salvatore Bontempo, ricercatore presso l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare a Napoli, associato al CERN, e oggi vi parlerò della fisica delle particelle, e qui c'è un breve resoconto di quello che toccheremo come argomenti, il concetto delle particelle elementari, come facciamo questi studi al CERN, con gli acceleratori, quindi vi parlerò del più grande acceleratore al mondo mai concepito, realizzato al CERN e funzionante, che si chiama LHC, vi parlerò dell'esperimento CMS, che è l'esperimento nel quale ho il piacere e l'onore di lavorare. Alla fine del mio seminario avremo il vantaggio di avere anche una visita virtuale, di questo ringrazio ulteriormente Zoltan e Noemi e le due guide che ci guideranno, sono due italiani, nella visita dei siti sotterranei, quindi questo, a differenza del seminario dell'anno scorso, ci permetterà di entrare fisicamente nell'esperimento e vederne dettagli. Parleremo anche dei cosiddetti enigmi da risolvere, cioè perché facciamo tutto questo e quali sono le prime risposte che abbiamo dato, e dopo il seminario, se ci rimane un po' di tempo, vorrei anche toccare alcuni punti in merito al trasferimento tecnologico, appunto a quelle cose di cui parlavamo prima, di fisica delle particelle nella vita di tutti i giorni. Allora, rapidamente, che cos'è una particella? L'uomo ha sempre cercato di capire tutto quello che ci circonda, di che cosa è fatto, quindi possiamo sintetizzare che la ricerca delle particelle è la ricerca di capire di cosa è fatto tutto ciò che ci circonda, e quindi i mattoncini elementari di tutto quello che vediamo attorno a noi. Si è partito da Democrito fino ad arrivare agli anni Sessanta al concetto di Quark, che sono gli elementi costituenti, quelli che erano le particelle che pensavamo fossero i costituenti di quello che pensavamo all'inizio del secolo fosse l'atomo, e cioè l'oggetto indivisibile, che era stato classificato poi con una serie di elementi nella tabella di Mendeleev. Per quanto riguarda questo tipo di ricerca, a oggi ci ha permesso di fare appunto una serie di passi in avanti dal mondo delle molecole al mondo delle particelle elementari, passando dalla dimensione macroscopica dei centimetri a dimensioni che, come vedete già, è uno dei tanti primi punti interrogativi che troveremo nel seminario di oggi, che è un mondo almeno inferiore a 10 alla meno 16. Vuol dire che se mi dimondate quanto è grande un Quark o quanto è grande un elettrone, la risposta che vi posso dare oggi è non lo so. Questo è il primo dei tanti non lo so che vi dirò durante il mio seminario, e questo tipo di ricerca, che si chiama ricerca di base, ha proprio come obiettivo quello di eliminare del non lo so, e dare delle risposte concrete a delle domande che oggi hanno come risposta il non lo so. Oggi posso dare una dimensione macro, diciamo un upper limit, un limite superiore della dimensione di queste particelle, ma non posso dire se 17, 18, 19. E abbiamo fatto una serie di studi, già lo vedete da questo grafico, nella parte centrale dell'atomo, cioè quello che chiamo il nucleo, che abbiamo smontato in adroni, cioè i protoni e i neutroni, che abbiamo a loro volta smontato in Quark, ma come vedete già da questa schematica, l'elettrone, cioè quest'altra famiglia di particelle che non sta dentro il nucleo, ma che sta fuori dal nucleo, a oggi sono rimasti un oggetto sconosciuto, cioè quello che sapevo ai tempi della scomposizione dell'atomo è quello che so oggi. Quindi se mi dite di cosa è fatto il nucleo, vi so dire che è fatto di adroni, che sono fatti di Quark, se mi dite che cosa è fatto l'elettrone, la risposta è non lo so. Cioè questo è il limite del non lo so. Quando vogliamo andare oltre la prossima colonna, in questa tabellina, cominciano tutti i non lo so. E quindi la ricerca di base vuole proprio rispondere a questi non lo so. Quindi chiarisco fin da subito la ricerca di base a cosa serve. Non serve a niente, come dico ai miei studenti. La ricerca di base non ha un obiettivo pragmatico, immediato, non vuole risolvere un problema contingente subito, ma vuole rispondere a dei non lo so. Però dobbiamo dirci altrettanto chiaramente che più domande otterranno risposte, più problemi pragmatici saranno facilmente risolubili. Quindi questi non lo so che convertiamo in risposte potranno diventare delle tacche degli ospedali, dei cruscotti a touchscreen in una macchina, dei droni che volano, delle strumentazioni innovative che 5, 10, 20 anni fa neanche immaginavamo poter fare. Allora, noi parliamo di mattoncini elementari e quindi qui ve li rappresenterò con dei pupazzetti. Qui ho rappresentato i quark e qui ho rappresentato l'elettrone, il leptone, che li considero come i miei mattoncini Lego con i quali voglio costruire l'universo che ci circonda. Ora, qui i quark li ho denominati up and down e vi posso già dire che se, come con il Lego, prendo due up e un down e li metto insieme, costruisco un protone. Se invece prendo un up e due down e li metto insieme, costruisco un neutrone. Quindi capite che a questo punto se voglio costruire un atomo, qui mi sono creato due protoni, qui mi sono creato due neutroni, li metto insieme, poi ci metto due elettroni attorno e li comincio a fare svolazzare, orbitare attorno a queste quattro particelle che costruiscono il nucleo e così ho costruito quello che chiamo l'atomo di elio. L'elio, per intenderci, è quel gas che troviamo nelle bombole messe nella piazza di Termoli quando ci sono le feste del patrono e con le quali si gonfiano i palloncini che si danno ai bambini. Quindi è un gas più leggero dell'aria e quindi permette ai palloncini di rimanere in alto e volare via se si spezza il filo. Se moltiplichiamo questo esercizio per miliardi e miliardi di volte, possiamo costruire, come è costruito l'atomo di elio, possiamo costruire l'intero universo che ci circonda. E voglio sottolineare fin da ora l'universo per quello che conosciamo dell'universo. Quindi vorrei anche chiarire che io non sono qui oggi a parlarvi della conoscenza assoluta e di scienza infusa, ma stiamo parlando soltanto di fotografie, di cose che riusciamo a capire e che rappresentano il limite della nostra conoscenza, ma che rappresentano al tempo stesso e ci ricordano tutti i giorni il limite anche della nostra ignoranza, che dove finisce la mia conoscenza comincia la lista del non lo so, che vuol dire la mia ignoranza. Allora, quello che facciamo al CER, noi facciamo in una sintetica vignetta quello che è rappresentato qui. Prendiamo due oggetti, li facciamo sbattere tra di loro e facciamo una fotografia e vediamo quello che succede. Questo è in maniera sintetica, però in maniera molto chiara quello che avviene al CER con le collisioni di particelle. Noi abbiamo uno che dice 3, 2, 1, via, tiro le particelle, quando le particelle collidono devo fare una fotografia, non la devo fare un po' prima o un po' dopo, ma la devo fare esattamente nel momento in cui collidono queste particelle e poi guardarmi queste fotografie e cercare di capire che cosa è successo, che cosa ho prodotto. Allora, cominciamo a sintetizzare questo in maniera molto semplificativa. Immaginiamo che abbiamo due elicotteri e questi due elicotteri li posso accelerare con il mio acceleratore, diciamo che in questo caso è il pedale del pilota o la leva del pilota che permette di accelerare questi elicotteri e non li porto per ora al massimo, ma sto diciamo a un terzo del massimo dell'energia alla quale li posso far collidere. Se li faccio collidere quello che succede ovviamente nulla di spettacolare, ma semplicemente un bel incidente con a terra una serie di frammenti di elicotteri. Immaginiamo di alzare l'energia di questa collisione e quindi di far aumentare l'energia che si raccoglie nel momento in cui i due oggetti elicottero collidono. Quello che succederà è che banalmente mi aspetto che si frantumano in pezzi più piccoli. Ora invece però facciamo l'esperimento all'estremo, cioè immaginiamo di portare questi elicotteri al massimo dell'energia con la quale posso portarli con il mio acceleratore. Ebbene, quello che succederà vedete è una cosa molto interessante, molto intrigante e molto particolare che vi voglio rappresentare in un modo estremamente provocatorio. Cioè come vedete io ho fatto collidare due elicotteri e mi ritrovo che ho prodotto due dinosauri, due T-Rex per essere più precisi per quelli di voi che sono appassionati di dinosauri. Che cosa voglio dire con questa trasparenza? Voglio dire semplicemente che ho fatto collidare gli elicotteri e non mi ritrovo più dei pezzi di elicottero, non mi trovo neanche più dei pezzi dei piloti che ci stavano dentro dell'equipaggio senza voler essere magra, però mi trovo delle cose prodotte che non hanno niente a che fare con quello che stava negli elicotteri e addirittura sono cose che oggi non esistono più. Oggi non è che esco fuori a Termoli o a Boiano e trovo dei T-Rex per fortuna che vanno a passeggio, ma sono cose che esistevano miliardi di anni fa. Quindi questo mi dice che ho fatto avvenire una collisione e da quella collisione ho prodotto qualcosa che non c'era in quello che ho fatto collidere e che non c'era neanche nel tempo, nel momento, nella fase spazio-tempo nella quale è avvenuta la collisione. Cioè quello che è successo e questa, credetemi, è l'unica formula che vi farò vedere oggi perché il mio seminario vuole essere volutamente estremamente divulgativo, è una formula che mi permetto di dire è tanto magica quanto il pi greco di cui parlavamo all'inizio, che è una formula che non a caso ha congepito proprio quel signore capellone che avrebbe fatto il compleanno domani, avrebbe compiuto 142 anni, se non sbaglio, che ci dice una cosa molto affascinante, quasi quanto il pi greco. Se dimentichiamo il c quadro, che è una costante di allineamento, questa formula ci dice che E è uguale M, cioè che energia è uguale massa, cioè che l'energia e la materia sono due facce della stessa medaglia. Credetemi, questa cosa oggi nel 2021 a Boiano e a Termovi e nel mondo in generale non è una cosa di banale intuizione. Immaginate quanto doveva essere ancora meno banale nel 1915 quando questo signore ha concepito questo concetto. Energia e materia sono due facce della stessa medaglia. è una cosa non facile da intuire, neanche oggi facile da credere, facile da capire che la materia, cioè che un pezzo di legno se lo brucio, se faccio attivare una combustione mi possa produrre dell'energia, del calore, posso anche immaginare e quindi dire allora questo calore, questo fuoco stava concentrato nel mio pezzo di legno e avendo attivato la combustione, una reazione chimica, ho liberato quell'energia che era intrappolata nel mio pezzo di legno. Ma questa formula non ci dice soltanto che massa è uguale energia ma che anche energia è uguale massa, cioè questa è una formula che vale da tutti e due sensi E uguale M e M uguale E. Cioè questo mi dice che anche il fuoco mi potrebbe ridare il legno e capite che questo comincia ad essere un concetto un po' più complicato da digerire. Ebbene, noi quello che facciamo con le collisioni è proprio questo, noi quello che facciamo è abbiamo preso l'energia presente in queste collisioni e questa energia l'abbiamo utilizzata per creare qualcosa di nuovo. Cioè mi spiego meglio. Nei miei elicotteri, il mio elicottero peserà tre tonnellate uno e tre tonnellate un altro, quindi hanno una massa, quindi quando le faccio sbattere, queste masse mi mettono in gioco a riposo sei tonnellate in generale. Ma se io queste elicotteri li accelero e quindi gli porto un'energia molto più alta della loro energia a riposo, cioè dell'equivalente della loro energia quando stanno fermi, che è pari al loro peso, l'energia più, l'energia minima che quell'oggetto mi può dare, diciamo così, ma se gliene metto non il doppio, cioè lo accelero non perché è come se pesasse sei tonnellate e neanche se pesasse dieci volte, non trenta tonnellate, e neanche trecento tonnellate, ma è come se gli mettessi dentro trecento miliardi di tonnellate equivalenti, quindi lo accelero in maniera mostruosa al punto tale che c'è un'energia enorme rispetto alla sua energia a riposo, a quel punto tutta questa energia che è il mio oggetto di destra che sbatte contro l'un oggetto di sinistra, secondo la formula di Einstein concepita più di cento anni fa, l'unica cosa che può fare tutta questa E più E e quindi che mi dà nel punto di collisione due E si può convertire in M e mi produce di nuovo altra M però questa M non è la massa che stava nel motore nello schermo nel vetro dell'elicottero ma è la massa che è data da tutta l'energia che gli ho dato con l'acceleratore che ho pagato con l'energia elettrica che ho utilizzato per spingere questo elicottero al di là di una velocità normale e tutta questa E mi produce roba nuova e questo è il concetto chiave di tutto il seminario di oggi noi acceleriamo al CERN delle particelle per produrre nuove particelle ma non facciamo rompere delle particelle e vediamo che ci sta dentro ma le particelle sono dei portatori di energia che acceleriamo a un punto mostruoso tale che la loro energia in accelerazione è in miliardi di volte superiore all'energia che avevano a riposo quando stavano fermi e quindi tutta questa energia mi produrrà tante altre particelle e io faccio la fotografia di quello che succede e vedo che particelle ho prodotto in questo modo noi possiamo dire che oltre 13 miliardi anni fa nell'universo oltre i nostri due quark che vi ho presentato prima che sono up and down ce n'erano altri quattro e questa è la famiglia dei quark per quello che conosciamo oggi sei quark e i leptoni oltre ad avere l'elettrone che è quello che vi ho fatto vedere prima avevano una serie di altri leptoni più pesanti e più instabili il muone che pesa mille volte l'elettrone il taone che pesa mille volte il muone e così via e i loro cosiddetti partner neutri cioè i neutrini neutrino elettronico neutrino monico neutrino taonico già vedete una simpatica simmetria sei quark e sei leptoni perché sono sei la risposta è non lo so oltre questi queste due famiglie c'è anche un altro aspetto delle particelle che è la cosetta antimateria cioè per ogni particella c'è il suo partner che è l'antiparticella per l'up c'è l'anti-up per il down c'è l'anti-up per l'elettrone c'è l'anti-elettrone che chiamiamo positrone per il neutrino c'è l'anti-neutrino elettrone ovviamente questo che vi ho fatto per un sotto insieme di quei sei vale per tutti i dodici quelli che abbiamo visto prima sono le particelle e le antiparticelle sono identiche proprio identiche come due gemelli soltanto che hanno una carica elettrica opposta ma anche qui perché nell'universo vedo tanta 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 materia e non vedo l'anti-materia perché l'anti-materia è sparita perché qui parliamo e c'è la scolaresca di Termoli e non c'è l'anti-scolaresca perché c'è il mio computer davanti al quale vi sto comunicando e non c'è l'anti-computer a fianco la risposta è non lo so e un altro non lo so non so che fine ha fatto l'anti-materia nella creazione dell'universo e sarebbe bello poterne avere un certo quantitativo di antimateria per poterla studiare e capire che prestazioni c'ha e perché scompare così facilmente allora per complicare un po' le cose in realtà noi quello che facciamo con il nostro acceleratore acceleriamo i nostri elementi li facciamo collidere producono i miei dinosauri però questi dinosauri hanno anche una vita media breve e scompaiono decadono in qualcos'altro in questi puntini verdi che sono le le particelle che rilasciano questi dinosauri queste particelle diciamo antiche che non esistono più oggi quindi io quando faccio le collisioni mi trovo a essere come una specie di detective che va sul luogo del delitto e non vede il filmato di quello che è successo ma vede soltanto le tracce di quello che è rimasto da quello che è successo e quindi deve capire dalle tracce di quello che trova quello che è possibile che sia successo e quindi ricostruire la fase intermedia dalla collisione alla traccia finale che è stata registrata ora oltre queste particelle che abbiamo descritto adesso che sono la famiglia dei quark e la famiglia dei leptoni c'è un'altra famiglia di particelle che noi chiamiamo i bosoni vi introduco questo concetto perché poi appunto dovremmo parlare del bosone di Higgs però penso che prima di parlare del bosone di Higgs bisogna capire tutto che cos'è un bosone e poi chiamiamo che cos'è quello di Higgs allora le particelle cosiddette responsabili delle interazioni cioè le le particelle elementari che abbiamo discusso prima in realtà possono interagire tra di loro con tre tipi di forze che sono le forze con le quali avvengono le interazioni fondamentali nella materia e sono la forza elettromagnetica la forza nucleare forte e la forza nucleare debole la forza elettromagnetica per intenderci è quella che ci spiega come mai l'elettrone orbita attorno al nucleo e rimane intrappolato per il campo elettromagnetico che lo tiene lì dentro la forza nucleare forte è quella che mi spiega per esempio come mai io posso avere dentro il nucleo due protoni i due protoni sono carichi tutti e due positivamente quindi sappiamo tutti che se mettiamo due calamite e avviciniamo i due poli positivi quello che succede è che si respingono perché la forza elettromagnetica li terrebbe lontani però c'è un'altra forza nel nucleo che è una forza detta appunto forte è una forza nucleare perché sta nel nucleo ed è forte ed è quella che tiene incollati questi due protoni molto in maniera più forte rispetto a quando la forza elettromagnetica li terrebbe lontani la forza nucleare debole invece è quella responsabile dei cosiddetti decadimenti spontanei delle particelle cioè alcune particelle come quelle che produciamo dalle collisioni spontaneamente dopo un po' decadono in qualcos'altro hanno una cosiddetta vita media di qualche secondo qualche frazione di secondo molto più piccole magari dei nanosecondi e poi si trasformano in qualcos'altro questo avviene perché interagiscono tra di loro tramite una forza che chiamiamo nucleare debole ebbene queste forze le possiamo vedere come una palla con la quale immaginate due giocatori che stanno su due barche si palleggiano un oggetto e questo oggetto chiaramente palleggiandole solo tra di loro creano una spinta quindi un'interazione tra queste due barche quindi immaginiamo che questi due giocatori se si palleggiano un fotone vuol dire che stanno interagendo in maniera elettromagnetica e quindi queste due barche interagiranno in maniera elettromagnetica se si palleggiano un gluone che dalla parola inglese glu ci dice colla che ci ricorda il fatto che tiene incollati i due protoni nel nucleo a questo punto interagiranno in maniera nucleare forte se invece si palleggiano i bosoni W e Z0 allora staranno interagendo in maniera nucleare debole queste particelle e quindi queste queste palline diciamo così che sono indicative della interazione delle particelle che qui sono schematizzate dagli uomini sulla barca le chiamiamo bosoni quindi per capirci il bosone è una famiglia di particelle che rappresentano le interazioni tramite le quali le altre particelle interagiscono tra di loro quindi per rappresentarlo in maniera ufficiale e formale abbiamo descritto con la prima mezzoretta di seminario quello che noi chiamiamo il modello standard cioè questa è l'equivalente della tabella di Mendeleev dei giorni nostri cioè a oggi noi possiamo dire che i quark sono fatti da sei elementi l'up and down il charm e strange il top and bottom i leptoni sono fatti dall'elettrone muone tauone e dai neutrini corrispettivi e poi qui ci sono i bosoni corrispettivi delle forze in realtà oltre a questi bosoni ci sarebbe anche un altro che sarebbe il bosone della forza di gravità che sarebbe il gravitone cosiddetto che sarebbe un'altra palla attraverso la quale quando io parlo con la terra e quindi interagiamo in maniera gravitazionale e ci attraiamo in maniera legata definita dalla forza di gravità questa è la tabella formale con la quale rappresentiamo il modello standard penso che sarete tutti convinti che ci piace molto di più continuare con i pupazzetti dei nostri sei quark dei nostri sei leptoni e qui ho aggiunto i nostri gluoni il fotone che non a caso è una stella di luce il gluone che è un qualcosa di appiccicaticcio e grosso e i w e z0 che sono lenti ma sono in maniera importante anche dal punto di vista di capacità gravitazionali interazionali e quello che voglio farvi notare tornando invece alla tabella vera e vedete che queste particelle a loro volta hanno una massa hanno un peso diciamo così che in questo ambito è descritto come energia cioè non sto dicendo che il peso lo misuro in chilogrammi ma lo misuro in elettron volt sfruttando quella formula di Einstein cioè Einstein mi ha detto che energia e massa sono la stessa cosa allora io posso dire che Salvatore Buontempo pesa 78 chili oppure posso dire che ha un certo equivalente di elettron volt questo è quello che facciamo con queste strutture a queste particelle gli diamo la massa definendo l'energia equivalente come vedete in alcuni casi non sappiamo quant'è la loro massa ma sappiamo come per la dimensione di cui parlavamo prima soltanto il limite superiore più piccolo di un certo valore anche per i bosoni mettiamo una massa e come vedete queste masse sono molto grandi qui stiamo parlando di giga elettron volt mentre qui parliamo di mega elettron volt e qui vedete anche che questi sono più leggeri di questi che sono più leggeri di questi mentre il fotone e il gluone hanno massa zero allora come facciamo tutto questo esercizio in realtà non lo facciamo con degli elicotteri ma lo facciamo accelerando delle particelle con gli acceleratori e allora e facendo col dire delle particelle vi parlo dell'acceleratore LHC dove LHC sta per Large Hadron Collider al sito che trovate indicato in queste trasparenze queste trasparenze non ve l'ho detto saranno messe a disposizione e tutto quello che vi sto dicendo viene registrato quindi avrete un link nel quale potrete anche risentirvi questo seminario e riguardarvi anche la visita virtuale che faremo fra un po' LHC è un acceleratore che è stato costruito a Ginevra qui ci troviamo in prossimità del confine Franco-Svizzero questo è l'acceleratore che ha una circonferenza di 27 chilometri di lunghezza e questo è il tunnel all'interno dell'acceleratore dove ci sono i vari magneti che servono per accelerare due fasci di protoni uno che cammina in questo tubicino e l'altro che cammina in quest'altro tubicino questo va in senso orario e questo va in senso antiorario per quanto riguarda questo acceleratore per capirci è lo strumento uno degli strumenti più complessi vedo una domanda non lo so fatto no non è una domanda allora per quanto riguarda il scusami l'acceleratore torno indietro allora l'acceleratore è uno strumento molto complesso ci sono voluti oltre 20 anni per costruire per progettarlo prototiparlo e costruirlo ed è montato da un numero superiore a 1400 magneti lunghi 15 metri ognuno che servono per accelerare queste particelle e tutto questo avviene con dei magneti superconduttivi dove superconduttivo vuol dire che si hanno dei fenomeni particolari all'interno di queste bobbine che sono legate al fenomeno della superconduttività cioè dei metalli che conducono molto di più di quello che conduce il rame nei cavi elettrici che abbiamo a casa nei fili nell'impianto elettrico e che permette di gestire un campo magnetico che mi fa accelerare queste particelle dentro questo oggetto alla velocità della luce in questo filmato vediamo in maniera sintetica quello che avviene al CERN noi quello che facciamo partiamo da una bombola di idrogeno come quella dell'elio di cui parlavo prima tutto questo avviene a Ginevra al confine tra Francia e Svizzera questo per capirci la pista dell'aeroporto di Ginevra l'acceleratore parte inizialmente da una fase iniziale in cui abbiamo una bombola di idrogeno separiamo i protoni prendiamo i protoni li mandiamo in un acceleratore lineare in questo elemento che è un anello di accumulazione dove creiamo dei pacchetti di protoni cioè metto non accelerare i protoni una volta ma faccio dei pacchetti di qualche miliardo ognuno e questi pacchetti che vedete qui illuminati in giallo li metto in questo primo acceleratore che chiamo protosincrotrone dove riporto un'energia che è circa un giga elettron volt cioè circa un miliardo di elettron volt da questo acceleratore piccolo li inietto in un altro acceleratore intermedio che si chiama super protosincrotrone dove li porto a un'energia di qualche decina di giga elettron volt dopodiché li inietto dentro l'HC l'acceleratore grande che è lungo 27 chilometri dove li porto ai tera elettron volt e li faccio collidere nei punti di collisione quello che avete visto qui in un fotogramma iniziale questo che vedete qui è l'esperimento CMS quello di quale vi parlerò fra un po' e che vedremo nella visita sotterranea che si trova a 100 metri di profondità i protoni quando arrivano qui collidono al centro di CMS producono queste collisioni e CMS è come una grande macchina fotografica che fotografa quello che succede e me lo registra e poi mi devo analizzare quelle fotografie questo è quello che facciamo al CERN per capirci quindi acceleriamo dei gruppetti di protoni dove per gruppetto intendo 100 miliardi di protoni in ogni gruppetto li porto all'energia con l'HC di 7 tera elettron volt per singolo protone dopodiché dentro tutto l'HC ho messo 2800 gruppetti di protoni e li faccio collidere tra di loro per quello che vi ho detto nel punto di collisione avrò due volte l'energia di ogni singolo protone quindi mi troverò 7 più 7 14 elettron volt e tutta questa energia di colpo l'unica cosa che può fare è produrre nuove particelle quindi nuova M grazie a tutta la E che ho messo in gioco nel mio acceleratore e nel punto di collisione quindi capite che io parto da un protone un altro protone li faccio collidere e poi produrrò 5 elettroni 16 protoni 14 neutroni e capite che questo è una cosa che sembra diciamo quasi magica è come se stessi dicendo ho preso un'automobile ho preso un'altra automobile le ho fatte collidere non ho trovato pezzi di automobili ma ho cominciato a produrre 16 automobili 14 autotreni 2 portaerei 14 jumbo allora capite che questo è possibile perché la massa di tutta quella roba che ho prodotto gli autotreni le vespe le biciclette le altre macchine più tutta l'energia che loro hanno perché loro schizzano via non è che le produco che cadono a terra è data dalla somma delle due automobili che ho fatto collidere più tutta l'energia che ho messo in ognuna delle due automobili al punto tale da renderle così permettete di dire pesanti quindi così energetiche che posso produrre un sacco di altra roba da questa collisione che non c'entra niente con le due automobili le due automobili sono soltanto dei portatori di energia dei contenitori nei quali con il mio acceleratore ci riempio energia e poi faccio collidere questa energia contro energia questa è una domanda uno spettatore chiede perché l'acceleratore ha la forma di una circonferenza allora bella domanda si possono avere sia acceleratori a forma circolare che acceleratori lineari l'acceleratore circolare permette di passare più volte nello stesso punto e quindi in ogni passaggio gli do una spinta alle particelle e quindi aumento mano a mano l'energia spingendo le particelle sempre di più però ho anche un altro effetto negativo che siccome faccio una traiettoria curva parte di questa energia la mia particella la irradia e quindi a un certo punto quando arrivo a un'energia elevata che è definita dalla circonferenza dal diametro dell'acceleratore quindi della dimensione tanta ne ne do di più tanta ne butto di più per il raggiamento e quindi ogni acceleratore di una certa dimensione può arrivare con un certo tipo di particella ad un'energia massima dettata dalle sue dimensioni proprio fisiche dell'acceleratore gli acceleratori lineari invece se ne fanno sono acceleratori nei quali non perdo niente tutto quello che accelero mano a mano che passano i magneti e li spingo lo ritrovo in spinta però chiaramente ci passo solo una volta nel magnete però a questo punto al posto di fare magneti acceleratori compatti permettetemi di dire 27 chilometri per esempio uno dei progetti che si sta facendo a Ginevra e si sta facendo anche negli Stati Uniti è di acceleratori lineari in cui si hanno due bracci lunghi 40 chilometri 50 chilometri e ne faccio fare 50 chilometri a destra 50 chilometri a sinistra le accelero e sbattono nel punto di collisione però per capirci è una scelta puramente tecnologica in funzione di quale energia si vuole raggiungere con quale tipo di particelle e in quale budget di costo sia in termini proprio di soldi di realizzazione che in costo di energetico quanta energia ci metto per far funzionare 100 chilometri oppure 27 chilometri tante volte questa è una foto proprio di LHC in cui vediamo grazie Barbara se mi scusa non ti ho ringraziato se ci sono altre domande fammelo sapere sì ce n'è un'altra ma penso che risponderemo dopo a questa va bene chiede che figure professionali sono ricreste al CERN che arriviamo questo ci arriviamo e che percorso di studi è possibile seguire dottorati assolutamente sì e ne parleremo dopo la visita virtuale o anche durante la visita virtuale per capirci i nostri le nostre due guide saranno una collega altrettanto molisana quanto me di origine e di Rocca Vivara questo per farvi capire un paesino molto più piccolo di Boiano e ancora più piccolo ovviamente di Termoli che è più grande di Boiano e che lavora al CERN Sonia Natale e un altro collega Davide che è un giovane dottorando dell'università di Milano che vi spiegherà esattamente proprio il suo percorso e come a che studi ha fatto per arrivare oggi sta facendo il terzo anno di dottorato e sta facendo la sua tesi di dottorato al CERN e ho scelto non a caso queste due figure uno per farvi vedere che c'è anche un altro molisano che lavora al CERN e non siamo gli unici due ovviamente e ci sono dei ragazzi che in questo momento lavorano e partecipano attivamente al CERN in questa foto vedete l'acceleratore questo è un operatore che sta facendo una saldatura tra due magneti quindi questo per farvi capire il tunnel è lungo 27 km si muove con dei mezzi elettrici per entrare e uscire nei vari punti di accesso questo è l'oggetto nella sua interezza 27 km ci sono quattro punti in cui avvengono le collisioni il punto in cui è immontato l'esperimento ATLAS il punto in cui è immontato l'esperimento CMS nel quale ho l'onore e il piacere di lavorare e vi parlerò e vedremo fa un po' i punti di Alice e l'HCB al CERN lavorano 12.000 ricercatori questa foto è anche abbastanza datata non è aggiornata è del 2017 e come vedete i numeri sono molto grandi sia in termini di paesi che di il numero di persone e di istituti questo è il numero di persone che sono presenti per ogni paese ci tengo a sottolineare che per l'Italia qui eravamo quasi 1600 oggi siamo in realtà diventati quasi 1900 in realtà e quello che vorrei sottolineare è che l'esperimento al quale che viseremo fra un po' è CMS è uno degli oggetti più complessi mai concepiti realizzati al mondo come lo è l'acceleratore LHC e è la nostra macchina fotografica che ci permette di fare una fotografia per ogni collisione non ve l'ho detto LHC accelera le nostre particelle e produce 40 milioni di collisioni al secondo il nostro acceleratore fa 11 milioni di circonferenze al secondo con il protone che lo accelera e io faccio 40 milioni di volte la collisione in un secondo 40 milioni 80 milioni 120 milioni immaginate che ogni ogni secondo la nostra macchina fotografa 40 milioni di fotografie allora già questo confrontatelo con la vostra macchina fotografica che avete in tasca o nel cellulare o una macchina fotografica professionale le nostre macchine fotografiche permettono di fare delle fotografie a alta risoluzione e delle fotografie anche con dei filmati dove filmati vuol dire fare una sequenza di foto con una cadenza che di solito è dell'ordine di 30 o 40 hertz cioè 30 foto al secondo qui stiamo parlando invece di 40 milioni di foto al secondo su una macchina fotografica che non fa una foto piana a due dimensioni ma una foto tridimensionale ed in più tanto per capirci soltanto il tracciatore la parte più centrale di cms ha una risoluzione di circa 80 megapixel oggi non è banale è un insieme di macchine fotografiche che è lungo 6 metri di lunghezza quindi immaginate che la macchina fotografica che avete nel vostro cellulare è un chip che è grosso un millimetro quindi confrontate i metri con i millimetri i 30 hertz con i 40 megahertz la bidirezionalità con la macchina fotografica tridimensionale ed in più vi ricordo che questa macchina è già vecchia di 10 anni noi stiamo già lavorando all'upgrade di questa macchina cioè esisteva già 10 anni fa quando 10 anni fa le macchine fotografiche digitali le migliori erano a un di risoluzione si arrivava a un megapixel due megapixel non i 50 40 che si trovano oggi e comunque con delle prestazioni nettamente inferiori a questi oggetti ci sono due domande ok la prima in che modo è possibile separare elettroni e protoni prima di accelerarli questo è banale semplicemente proprio con un campo elettrico cioè questi oggetti vengono proprio smembrati nell'atomo dell'idrogeno vengono separati elettricamente con un campo elettromagnetico io attraggono una parte la carica positiva e mi rimane dall'altra parte la carica negativa quindi faccio venire fuori sfruttando delle forze elettromagnetiche il protone è come se lo strappo al mio atomo e poi mi raccolgo questi protoni li metto in quel acceleratore lineare che vi ho fatto vedere all'inizio la seconda no c'è un'altra dice c'erano stati dei dubbi circa i rischi di questo tipo di esperimenti addirittura si diceva che questo tipo di acceleratore poteva riprodurre un buco nero è vero è vero anche di questo siamo in un campo che non conosciamo bene quali sono i rischi se ci sono allora è una bella domanda sulla quale ci tengo a dare una risposta molto dettagliata e rigorosa e quindi la voglio dare in maniera proprio quantitativa giro a questa domanda rispondo con un'altra domanda allora lo sapete che nella stanza in questo momento state a casa vostra state nella vostra cameretta o nella vostra sala da pranzo davanti a un computer e state ascoltando il mio seminario state vivendo e state respirando perché in quella stanza c'è dell'ossigeno ci sono degli atomi di ossigeno ci sono delle molecole dell'aria che ci permettono di respirare e quindi di far vivere il nostro organismo se mi fate una domanda dicendo è possibile che all'improvviso nella stanzetta nella quale mi trovo a termoli tutto l'ossigeno di quella stanza decide per una bizzarria sua di accumularsi nello spigolo in alto a sinistra e di lasciarmi senza ossigeno e morire la risposta che dovrei dare a questa domanda è sì per i moti browniani delle molecole di aria che sono nella vostra stanza a termoli l'ossigeno potrebbe in maniera puramente caotica decidere di accumularsi tutto in un centimetro cubo nello spigolo in alto a destra che vedete nella vostra cameretta e voi morite soffocati perché non avete le bombole di ossigeno e non state lì terrorizzati che questa cosa possa succedere perché la risposta alla mia domanda deve essere può succedere che tutte le molecole di ossigeno si accumulano in alto però devo sempre aggiungere con che probabilità questa cosa può succedere e la probabilità secondo la quale i moti browniani dei molecole di aria si accumulano in uno spigolo in alto è 10 alla meno 35 cioè vuol dire 1 su 10 e 35 a 0 motivo per il quale noi con una certa diciamo impertinenza e una certa arroganza diciamo sai che c'è 10 alla meno 35 non me ne frega non me la compro la bomba l'ossigeno e sto tranquillo nella mia cameretta e quindi penso di non poter che la probabilità sia molto molto bassa e quindi rischio veramente poco per morire asfissiato nella mia cameretta a termoli adesso vengo alla prima domanda è possibile che LHC crei dei micro o dei nano buchi neri cioè vuol dire è possibile che in queste collisioni di due particelle tra l'insieme delle tante particelle che provoco posso produrre anche dei micro buchi neri allora la risposta anche a questa domanda è sì posso produrre dei micro buchi neri sapete quanto è la probabilità che questo succeda 10 alla meno 46 quindi se prima i moti browniani erano 10 alla meno 35 qui abbiamo un po' di 0 in più oltre a questi 0 in più dovete considerare che io questa accelerazione e questa collisione la faccio avvenire dentro un tubicino del mio acceleratore quello che ho fatto dire prima dove dentro ci ho fatto l'ultravuoto cioè non c'è niente perché chiaramente se io faccio camminare dei protoni dentro un tubo con l'aria l'aria vuol dire azoto ossigeno idrogeno altre robe altre molecole quindi il mio protone collide con un atomo di azoto e si ferma invece quel protone non deve camminare nel nulla non deve trovare niente deve soltanto sbattere con l'altro protone quindi là dentro ci ho fatto lo spazio più vuoto dell'universo ma vuol dire che per quello che conosco l'universo oggi noi siamo dieci volte più vuoti dello spazio intergalattico tra le stelle in quello spazio faccio avvenire delle collisioni produco la probabilità di 10 a meno 46 di fare dei buchi neri i buchi neri l'unica cosa che possono fare è voracemente mangiare quello che c'è attorno attorno c'è il vuoto c'è il nulla quindi per rispondere alla domanda spero di avervi convinto che la probabilità che questa cosa possa generare dei buchi neri una valanga di buchi neri che a sua volta in generi un inglobamento di tutta la materia circostante quindi come era stato detto anche quando cominciarono le collisioni mio figlio stava alla scuola elementare vicino a Ginevra e c'erano alcuni suoi amichetti che dicevano madonna oggi cominciarono le collisioni creeranno i buchi neri che si mangeranno tutta la terra e quindi noi spariremo ebbene non è successo nulla di tutto questo io quello che rispondo alle persone che mi dicono ma voi siete pazzi che prendete questo rischio di poter produrre questi buchi neri siccome sono persone che molto spesso non sono abbezze a questi numeri dice la meno 35 dice la meno 46 e dico quando comincerò a vedere la gente che comincia a camminare tutti con le bombole d'ossigeno perché hanno paura dei moti browniani dell'ossigeno allora forse c'ho ancora un miliardo di livello di probabilità maggiori prima di potermi preoccupare dei buchi neri prodotti dalle HC c'era una domanda una seconda domanda inerente anche a questa penso cosa potrebbe accadere se tra due particelle accelerate che si scontrano mettessimo un generico corpo cioè se non ci fosse il vuoto e assorbe quello che facciamo è quello che vi faccio vedere adesso nel rivelatore CMS cioè CMS quello che vediamo fra un po' con la visita grazie a Sonia e Davide e questo oggetto è un oggetto che si apre e si chiude si smonta e si monta per capirci lo scala di ordine di grandezza questa è una persona quindi Sonia adesso che entrerà dentro CMS camminerà e camminerà sopra sotto a destra a sinistra e vi farà vedere delle cose che non avremmo neanche visto se andavamo al CERN nella piattaforma dei visitatori è un oggetto che si trova in questa caverna sottoterra a 100 metri di profondità è lungo 15 metri quando è tutto chiuso pesa circa il doppio la torre Eiffel e produce qui all'interno un campo magnetico di 4 Tesla mai costruito un campo magnetico in un magnetico di diametro 6 metri cioè qui ci entra un pullman o un TIR comodamente per capirci come ordine di grandezza quello che facciamo il CMS lo immaginate come una grossa cipolla una grossa struttura a strati che si parte dagli strati interni cilindrici agli strati più esterni mano a mano sempre più grandi sempre cilindrici e ogni strato ha una sua un suo ruolo e qui vedete anche i paesi che hanno partecipato alla costruzione del tracciatore che è la zona centrale il calorimetro elettromagnetico questa zona verde il calorimetro adronio questa zona gialla il magnete questa zona questo cilindro grigio e poi questi rivelatori di muoni che stanno fuori se lo vediamo e per capirci la collisione che avviene qui il fascio di particelle viaggia al centro faccio avvenire le collisioni al centro mi producono delle tracce che registro con la mia macchina fotografica per rispondere a una domanda ce n'è un'altra di domanda però rispondo una alla volta le collisioni avvengono al centro e qui produco una serie di particelle tutto questo è proprio materiale che mi serve a fermare le particelle e a seconda di come le fermo capirò quello che è successo quindi per rispondere alla prima domanda se metto un oggetto dentro l'acceleratore per indietro se ci metto un tappo di sughero dentro il mio tappo del vuoto le mie particelle si fermano interagiscono il tappo di sughero e non camminano più altra domanda quali lunghezze d'onda vengono fotografate da questa macchina fotografica? allora ottima domanda non stiamo parlando di fotografie proprio del visibile come i fotoni che facciamo con i pixel di una telecamera ma facciamo una fotografia nel senso che ricostruiamo il tracciamento delle particelle prodotte qui siamo nella visione immaginate che il mio cilindro è come se l'ho affettato con un salame e questa è la fetta di salame che sto guardando quindi il mio acceleratore è questo puntino centrale che entra nello schermo del vostro computer entra e esce quindi ce n'è uno che entra nel computer un altro che esce in quel punto e la collisione avviene in quel punto produrrò una serie di particelle che schizzeranno via CMS è fatto da vari elementi il tracciatore che è fatto con strati di silicio che è la zona centrale il calorimetro elettromagnetico questa zona verde che è fatto con dei cristalli che assorbono queste particelle è il calorimetro adronico che è fatto con del ottone e dei piani di plastiche scintillanti che assorbe di nuovo le particelle quindi questo che vuol dire che se produco una particella qui il grosso di queste particelle passeranno nel tracciatore che sono tanti cilindri concentrici di silicio e per ogni cilindro faccio un puntino quindi è un po' il gioco della settimana enigmistica una particella che passa produce tanti puntini unisci quei puntini e traverai la traccia delle particelle se nella mia collisione trovo un gruppo di puntini qua un gruppo di puntini qua uno qua e uno qua dirò in questa collisione ho prodotto quattro particelle che hanno prodotto una traccia qua una qua una qua e una qua poi queste particelle se entrano e si fermano nel calorimetro adronico e elettromagnetico sono particelle che interagiscono in maniera elettromagnetica quindi mi daranno un segnale un'informazione qui se si fermano invece nel calorimetro adronico che vedete adroni torniamo alle parole che dicevamo all'inizio gli adroni sono le particelle pesanti quelle che stanno dentro il nucleo i protoni e i neutroni mentre gli elettromagnetici sono gli elettroni le particelle leggeri i fotoni gli elettroni che girano attorno al nucleo quindi questo ferma la roba leggera questo giallo invece ferma la roba pesante la mia macchina fotografica la mia fotografia è data da dei puntini delle tracce più delle informazioni che trovo in questi due oggetti che chiamo calorimetro poi tutto questo avviene dentro un campo magnetico questo che vedete qui in grigio è un grosso solenoide solenoide vuol dire che è una bobbina o un grosso avvolgimento di fili che ho messo attorno al mio cilindro che mi crea un grosso campo magnetico qui dentro e questo solenoide che cosa fa? il campo magnetico per una forza che non so se forse non l'avete studiato ancora al liceo che si chiama la forza di Lorenz la forza di Lorenz mi dice che se una particella elettrica carica si muove in un campo magnetico la studiamo al liceo non so se i colleghi ci sono arrivati però magari quelli del primo sicuramente non l'avranno fatto no la studiamo anche queste particelle se tengo il campo magnetico fermo io produco le mie quattro particelle mi fanno quattro tracce belle dritte una due tre e quattro se invece accendo il campo magnetico per la forza di Lorenz le particelle positive saranno curvate a destra le particelle negative saranno curvate a sinistra quindi il solenoide che cosa serve a crearmi un campo magnetico che mi curva le tracce delle particelle particelle che curveranno a destra posso dire sono positive particelle che curveranno a sinistra posso dire che sono negative particelle che curveranno molto cioè le curvo la particella fa una curva molto accentuata sono particelle lente che hanno poca energia perché le riesco a curvare tanto col campo magnetico particelle invece che vanno quasi dritte che curvo pochissimo sono particelle molto energetiche quindi capite che a secondo del raggio di curvature a secondo del verso se è curvata a destra a sinistra io già con le tracce che vedo nel tracciatore posso dire se quelle particelle erano cariche positive saranno cariche negative saranno molto energetiche saranno poco energetiche poi a secondo se si fermano nello strato verde o se si fermano nello strato giallo potrò dire che sono particelle di natura elettromagnetica tipo gli elettroni i leptoni per capirci o se sono particelle di natura adronica particelle pesanti ci sono poi alcune particelle che non le fermo con i miei calorimetri ma che escono fuori dal mio magnete che li chiamo immuni e questi oggetti si chiamano tracciatori di immuni cioè qui vedete ho messo del ferro questa roba rossa è proprio del ferro del ferraccio che è la mia struttura del mio supporto di CMS dentro la quale ho messo questi oggetti bianchi che sono dei tracciatori simili al tracciatore centrale però non fatti di silice ma fatti di gas di elementi gassosi un muone che attraversa questi quattro strati di tracciatore mi lascerà come puntini al centro qua mi lascia un puntino qua un puntino qua uno qua e uno qua allora se di queste quattro particelle che ho prodotto una si ferma qua è di natura elettromagnetica l'altra si ferma qua pure questa è elettromagnetica quest'altra invece si ferma qua è di natura adronica e quest'altra invece passa e mi lascia quattro puntini qua potrò dire è un muone allora CMS è una macchina fotografica spero di aver risposto alla domanda di prima che non fa le foto con i pixel nel senso di vedere quale lunghezze d'onda e quindi vedo il visibile o l'invisibile ma che mi ricostruisce una serie di eventi che sono legati a quel fenomeno di interazione delle particelle con la materia legato a quella domanda di prima che succede se metto una particella davanti a un tappo di sughero viene assorbita siccome io so che succede una particella elettromagnetica quando va in uno strato di cristalli oppure che succede una particella adronica quando va in uno strato di ottone più scintillatori qui riesco a avere dei pixel diciamo dell'informazione della mia immagine e a ricostruire quello che è successo queste immagini mi dicono quello che succede nella collisione un'ultima domanda direi di spostarle durante la visita le domande perché fra un po' lascio la parola secondo me la risposta è brevissima i buchi neri fino a quanto si possono espandere? questa non è questa non è una domanda brevissima no il buco nero a un certo punto è equilibrato semplicemente dalla sua forza di mangiare tutto ciò che lo circonda è limitato dalle forze che assorbono tutto ciò ma è una domanda credetemi tutt'altro che banale tornando a noi e che in più dovete anche considerare che più ci allontaniamo dal pianeta terra e più andiamo a guardare degli oggetti lontani e poco conosciuti più ci avviciniamo e ci addendriamo in quella serie di risposte del non lo so quindi dobbiamo essere anche molto chiari che su certe cose noi le risposte che vi diamo sono legate alle conoscenze che abbiamo oggi che hanno una barra d'errore sulla risposta che posso darvi e quindi sulla veridicità e quindi sul margine di fesseria che posso dire in una risposta che do a una certa domanda per completare l'introduzione su CMS e poi mi fermo e lascerò la parola a Sonia e a Davide il CMS la possiamo dire quindi come una grossa macchina fotografica tridimensionale che nel pixel nella zona centrale mi dà circa 75 megapixel e fa fotografie 40 milioni di foto al secondo anche per CMS ci sono voluti decine di anni per progettarlo prototiparlo e costruirlo e adesso ci stanno 3.000 persone per tenerlo in funzione fare la manutenzione e gestirlo voglio semplicemente mostrarvi alcune sequenze fotografiche della costruzione di CMS nella sala sotterranea che fra poco Sonia ci farà vedere questa è la sala di CMS queste sono delle persone a 100 metri di profondità nel sito in Francia e siamo a febbraio 2005 per capirci è tantamente grande che ci potrebbe entrare tutta la cattedrale i termoli comodamente questa è CMS costruita in superficie nella parte del laboratorio superficiale a 100 metri sopra a quella caverna dopodiché CMS è stato fatto a pezzi come vi dicevo è come un enorme salame tagliato a fette e qui vedete una fetta pronta per essere calata nel sito sotterraneo è stata tenuta sospesa da una gru che stava fuori da questo hangar questo oggetto pesa più di 1500 tonnellate quindi più di 1500 automobili vedete che il tappo del pozzo si comincia ad aprire a questo punto questo oggetto lo comincia a far scendere piano piano dove con piano piano vuol dire che c'è voluta una giornata per scendere da sopra a sotto otto ore con tutta una serie di elementi che misuravano le vibrazioni gli scossoni perché chiaramente non devo danneggiare quello che sto portando giù qui vedete la sala che era già stata preparata vedete che è un po' diversa dal 2005 ci sono una serie di infrastrutture delle balconate piano terra primo piano secondo piano terzo piano quarto piano e qui c'è il piano soprattutto dove c'è il carroponte non so se Sonia ci porterà fino a sopra qui ma sicuramente ci farà vedere tante cose interessanti e qui vedete che c'è messo e comincia ad arrivare scende vedete questi pattini che vediamo arancioni qui sono dei pattini a overcraft che servono una volta che c'è messo tocca terra a questo punto i miei pattini li accendo sollevo questo oggetto di pochi millimetri da terra e lo faccio scivolare a terra come con dei cuscinetti d'aria e lo metto nella sua posizione questo è l'oggetto come è oggi fra un po' lo vedremo dal vivo come è realizzato e costruito completamente questo che vedete al centro è il tubo di LHC nel quale camminano i miei protoni e all'interno del punto centrale dell'esperimento quando CMS è tutto chiuso quindi quando questo disco entra in questo disco qui e quindi questo naso entra in questo buco è tutto compattato a questo punto misurerò fotograferò le collisioni che avvengono al centro CMS per rispondere all'altra domanda siamo oltre 3.000 ricercatori ci sono più di 180 istituti tra cui anche l'Italia ovviamente di 38 nazioni e c'è una presenza di circa 800.000 studenti ogni anno sia di laurea che di dottorato ci sono alcune considerazioni da fare in merito agli enigmi che vogliamo risolvere però se volete io questa parte me la lascerei se volete dopo la visita adesso approfitterete la visita virtuale magari alcune di queste cose le possiamo discutere anche durante la visita nelle fasi morte della visita e poi ci è rimasta la parte inerente al trasferimento tecnologico che terrei comunque dopo la visita va bene un ragazzo chiedeva quanto tempo ci è voluto per costruirlo allora CMS la costruzione allora costruire è una parola grossa perché costruire vuol dire fare il progetto costruire un piccolo prototipo di un pezzo dopo di che ho dimostrato che lo so costruire ne devo costruire tante repliche tanti pezzi dopo di che tutti questi pezzi li devo montare tra di loro nel sito sotterraneo e dopo mettere scusatemi nel sito in superficie metterli in funzione nel sito in superficie verificare che tutto questo funzionasse e poi portarli giù allora per capirci la discesa giù è cominciata nel 2007 è stata completata nel 2008 e poi è stata ottimizzata scusate nel 2005 e 2008 la discesa da diciamo di tutti i singoli pezzi per quanto riguarda la costruzione dei prototipi era avvenuto nel quinquennio precedente per quanto riguarda la 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 progettazione è avvenuta negli anni 90 quindi per capirci CMS è stato concepito alla fine degli anni 80 inizio degli anni 90 progettato e prototipato negli anni 90 inizio 2000 costruito dall'inizio degli anni 2000 è cominciato assiemato in superficie intorno al 2005 e 2006 è portato a pezzi giù mano a mano e poi riassemblato richiuso e rimesso in funzione ci sono altre due domande però se vogliamo iniziare la visita le teniamo magari in caldo per dopo va bene allora Zoltan we paused the seminar for the moment and I'm ready to release the word to to Sonia if she's there if she's ready we cannot hear you hello ah now yes ciao ciao a tutti allora presento i due colleghi anzi presentatevi voi che forse la cosa più io già ho dato prima quando ancora non c'eravate delle informazioni in merito alla vostra al vostro profilo alla vostra origine geografica mi fermo qui e e date voi delle informazioni in merito a chi siete cosa fate e cosa ci farete vedere vai devo cominciare io allora innanzitutto buongiorno io mi chiamo Sonia e anche se il mio accento è romano e sono direi in gran parte vissuta a Roma tutte le mie estati fino a che non è arrivata questa situazione terribile le passo a Vasto che è solo 15 km 25 km da Termoli e le mie origini sono proprio della zona ho mia madre di Vasto e mio padre era di Rocca Vivara dove c'è il santuario di Canneto che voi conoscerete ecco quindi della Madonna del Rosario quindi mi sento un po' a casa con voi e sono contenta oggi di fare di mostrarvi vedrete probabilmente mi divertirò tantissimo ve ne accorgerete ma cercherò di mostrarvi un po' quali sono veramente cosa significa essere a contatto con un oggetto di questo genere le meraviglie di questo di questo rivelatore proprio quando uno ci può anche camminare sopra e ho studiato fisica delle particelle a Roma poi sono arrivata al CERN finendo la mia tesi di laurea e ho passato un anno al Politecnico di Lusanna e poi ho accettato un contratto cioè per il mio dottorato all'Università di Ginevra per la fisica delle astroparticelle quindi diciamo così sono una fisica delle particelle nata per fisica su acceleratore che poi si è continuato nella fisica delle particelle dove la sorgente non è più un acceleratore ma sono le particelle nello spazio e l'esperimento a cui sono diciamo fiera di aver contribuito alla costruzione è un esperimento che attualmente si trova sulla stazione spaziale e prende dati quindi eventualmente se ci sarà occasione adesso o nel futuro ne potremo parlare lascio la parola al mio collega ciao a tutti io sono Davide Davide Valsecchi allora geograficamente sono un po' più lontano ma forse sono più vicino anagraficamente diciamo io ho 27 anni e sono al mio ultimo anno di dottorato in fisica delle particelle io vengo da Bergamo e ho studiato fisica all'Università di Milano Bicocca e da diciamo tre anni sto appunto facendo il dottorato sempre all'Università di Milano Bicocca ma mi trovo qui al CERN per fare il mio dottorato qui in CMS anch'io appunto sono un fisico sperimentale quindi mi occupo principalmente sia di analizzare i dati che delle collisioni delle particelle che raccogliamo qui a CMS ma anche di ottimizzare e diciamo lavorare ai nostri detector quindi nel mio caso io lavoro al calorimetro magnetico e magari ne parleremo meglio dopo e quindi niente spero di raccontarvi poi anche meglio il mio percorso di studi così che non so chi di voi può essere interessato a questo tipo di carriera comunque può avere qualche spunto possiamo direi comunque iniziare quindi non perdere tempo e iniziare a scendere a vedere il nostro meraviglioso detecco sì allora grazie mille Sonia e Davide io approfitto per dare una risposta subito a uno spettatore anonimo che mi chiedeva è possibile fare degli stagi al CERN e per approfondire questi argomenti assolutamente sì ovviamente gli stagi sono rivolti a studenti studenti laureandi studenti di varie facoltà non soltanto di fisica ma anche di settori più ingegneristici informatici o altro e questi stagi possono essere da qualche settimana a qualche mese si può applicare per varie forme di periodi anche d'estate per i cosiddetti summer student che passano un periodo di svariate settimane al CERN poi ci sono i technical student cioè degli studenti che partecipano per materie prettamente tecniche quindi più ingegneristiche ci sono i doctoral student che possono applicare per fare parte del dottorato pagato da una borsa al CERN e poi ci sono anche delle borse post laurea e post dottorato che non vuol dire un contratto a tempo indeterminato ma un contratto per un periodo limitato di un anno due anni tre anni sono fatti apposta proprio per formare le persone e migliorare le loro competenze in settori specifici Sonia e Davide lascio la parola a voi Salvatore volevo aggiungere che oltre a tutti i programmi che tu hai detto e che chiaramente sono rivolti a studenti che hanno già fatto la loro scelta di vita quindi hanno deciso già di fare fisica o ingegneria ci sono anche dei programmi per studenti di scuola superiore come per esempio come per esempio una cosa molto interessante che è la possibilità di vincere perché poi è una competizione una o due settimane di fascio cioè di poter portare il proprio oggetto presentare un piccolo progettino di esperimento che poi entra in una competizione poi eventualmente magari diremo si chiama Binline for School la sigla è BL4S lo trovate e di fatto accettano progetti dove si presentano all'incirca al massimo dieci studenti e se il progetto viene accettato siete invitati a passare ora periodo permettendo diciamo così una settimana o due settimane al CERN dove fate veramente mettete il vostro esperimento lo mettete lo provate sul fascio di particelle ultimamente è stato fatto anche a Desi in Germania perché non c'era fascio qui a CERN però questo è un bellissimo programma e poi dopo ci sono invece dei programmi che vengono fatti di una settimana di stage dove per esempio si fanno stage sulla robotica si fanno stage e sono questo programma in particolare l'ho visto fare per gli italiani devo dire la verità la responsabile Antonella del Rosso non so adesso in questo periodo se attivo ma fino a un anno fa era attivo e molti studenti hanno partecipato quindi sono grazie Sonia questo è un punto molto importante magari eventualmente ne parliamo in dettaglio però per capirci le domande allora Sonia adesso ci porta giù e ci fa visitare il sito però per capirci uno degli obiettivi di questi seminari oltre che avvicinarmi alla fisica delle particelle e avvicinarmi fisicamente al CERN con una visita e con i contatti anche con i colleghi che non terminerò mai di ringraziare per la loro infinita cortesia e gentilezza serve anche per avvicinarvi a tutti questi strumenti che ci sono per poter finanziare delle idee dei periodi al CERN e quindi per renderli conosciuti a delle realtà che sono magari un po' più lontane come potrebbe essere il liceo di Termoli allora io faccio un attimo la vestizione per mostrare ai ragazzi che anche andare in un'area sperimentale non è come andare a fare una passeggiata quindi come vedete avendo io capito di una certa lunghezza la prima cosa che ho fatto questa è una legge generale in tutte le sale di laboratori ci si attacca ai capelli e ho questo che in questo momento non è acceso ma adesso lo attiverò e si chiama il proximetro perché questa è la nuova la new entries la vogliamo dire in inglese e praticamente questo oggetto qui mi permette di stare a distanza di sicurezza dai colleghi e non avvicinarmi troppo adesso lo accenderò l'elmetto che metterò e ecco qua con mossa molto ginnica le scarpe di sicurezza che sono di protezione per eventuali incidenti dopodiché una giacca per potermi far riconoscere cosa è rimasto vi farò vedere come si entra attraverso questo oggetto che vi mostro un pochino più questo è il dosimetro ma mi permetterà di entrare nell'area sperimentale quindi io vi lascio adesso mi connetto nell'altro sistema lascio il campo a Davide e ci sentiremo tra un po' va bene grazie mille Sonia vi starete chiedendo dove siamo in questo momento come vedete abbiamo un bellissimo sfondo di schermi in lontananza purtroppo adesso appunto per la maggior parte spenti ma perché siamo in un periodo di pausa della presa dati poi ne parleremo meglio dopo in questa stanza comunque è la cosiddetta control room di CMS quindi siamo in questo momento sopra a 100 metri sopra il nostro esperimento quasi in verticale circa e siamo in Francia dalla parte opposta rispetto alla sede di Meren che diciamo dove esatto yes thank you siamo alla parte opposta del sito principale di Meren che è appunto la sede del CERN quella che tutti voi conoscerete con il famoso globo globo di legno molto fotografato e in questo momento come sapete siccome l'acceleratore penso che appunto Salvatore vi abbia già raccontato molto di queste cose siccome l'acceleratore è lungo 27 chilometri ci sono questi quattro esperimenti sono distribuiti lungo questa circonferenza quindi noi ci troviamo esattamente dall'altra parte sperduti nella campagna francese quindi vi immaginate questi bellissimi campi verdi tra il lago e la montagna del Jura e nel mezzo questo capannone che è essenzialmente il nostro esperimento quindi anche la location è abbastanza è abbastanza bella e diciamo in questa contour room è molto importante perché è un po' il se volete il appunto il luogo di controllo un po' come la NASA come vedete come si è visto recentemente con il lancio del nuovo rover si ha tutta questa zona di controllo di monitor gli esperti che appunto monitorano la situazione esattamente questo è quello che succede qui quindi abbiamo nell'angolo da quella parte la cosiddetta postazione dello shift leader cioè il diciamo la persona che è responsabile dell'esperimento e della sicurezza per il suo turno di otto ore poi abbiamo la postazione del technical shifter che si occupa della sicurezza del detector del controllo dei sistemi di sicurezza eccetera e poi abbiamo diverse postazioni per invece tutti quegli esperti grazie mille tutti quegli esperti questa qua è la postazione del technical shifter vedete tutte le telecamere i sistemi di controllo appunto dell'elettricità della corrente diciamo del raffreddamento di sistemi necessari e poi abbiamo le postazioni anche degli esperti che devono controllare la qualità dei dati quindi non so il trigger poi ne parleremo meglio ma diciamo che per ogni sezione dell'esperimento c'è una persona che si occupa di tenerlo sotto controllo per il suo turno e pensate che quando siamo in presa dati cioè quando siamo nel periodo in cui ci sono le collisioni e ci sono gli scontri all'interno dell'acceleratore noi stiamo prendendo dei dati pensate che qui sette giorni su sette ventiquattori su ventiquattro c'è sempre un gruppo di cinque persone all'artazione che si occupa appunto di tenere in vita e di tenere sotto controllo l'esperimento poi ci sono moltissimi altri esperti che non sono qui fisicamente per otto ore ma sono sempre raggiungibili via telefono sono cosiddetti esperti on call diciamo reperibili che in caso di problemi devono essere pronti a intervenire chiaramente vedete queste sono le postazioni di tutti questi esperti che possono quando vengono qui a fare i propri test possono avere accesso alle loro interfacce di controllo ai terminali eccetera quindi vedete questi sono tutti degli schemi ad esempio dei rivelatori di muoni se non sbaglio e diciamo quindi è un posto molto iconico questa è la postazione di Eccal il mio sottodetetto quindi a cui sono molto affezionato e come volete diciamo immaginare questo è un luogo molto attivo in genere quindi è un po' purtroppo in questo periodo è triste vederlo abbastanza vuoto per ragioni di covid chiaramente ma presto cioè comunque riusciamo a continuare le nostre attività e stiamo continuando a fare i nostri test mantenendo solamente diciamo lo shift leader il technical shifter diciamo sul luogo e tenendo gli altri esperti raggiungibili da remoto quindi una chiamata zoom essenzialmente quindi diciamo i test continuano anche in questo periodo Davide scusami se ti interrompo siccome adesso ci sarà un po' più di rumore magari descrivo come entro e poi ti lascio di nuovo la parola quando ci manca ma dovremo cambiare la trasmissione del segnale quindi adesso sto andando sto entrando nella nella diciamo la la parte sperimentale se volete ma in superficie non sono ancora dentro mi sto avvicinando ad una porta verde che se voi avete visto il film Angeli e Demoni vi dovrebbe ricordare qualcosa perché il film più o meno inizia in questa maniera allora questo è un check vedete un sistema che permette di controllare il desimetro io adesso non lo farò il check lo farò all'uscita e quindi quello che faccio come vi ho detto entro mi faccio riconoscere teoricamente mi dovrebbe riconoscere ecco qua le porte si aprono dovrò abbassare la webcam un attimo entro e se sono brava dovrebbe farmi fare il check poi vi farò vedere quali sono i check che devo fare allora sì anche perché a volte succede una volta su due che non sei abbastanza brava esatto questa volta sono stata brava quindi adesso entra Noemi dunque abbiamo un check vedete Noemi mette i piedi su un su un quadrato ecco Noemi non è andata quel quadrato ha un sensore di peso per riconoscere che siamo degli umani non stiamo mettendo della del materiale perché non è una porta per materiale dopodiché ci sono dei 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 fasci infrarossi che servono per verificare che non portiamo zaini o altro materiale e infine sta facendo il check dell'iride che è esattamente quello che vi ricordavo per Angeli e Demoni perché la scena è abbastanza cruenta in quel caso e oltre al fatto che lì si verificava soltanto l'iride di un occhio mentre invece adesso si verificano tutte e due quindi nel caso sarebbe ancora più cruenta allora io sono davanti alla porta della scensore prego era una una delle tante fesserie dette in quel film perché per capirci quello strumento che misura lo scanning dell'iride controlla anche le pulsazioni del battito cardiaco nel film ti toglieva l'occhio a un tecnico per entrare e rubare l'antimateria anche all'epoca anche all'epoca lo faceva come uno solo anche all'epoca questo ma chiaramente come del resto mostrare che tutti i locali sperimentari hanno puliti lucidi e tutti quanti come i camici che non è affatto vero quindi è chiaro che nell'immaginario olivodiano la scienza si presenta in maniera diversa adesso ragazzi vedrete che in effetti invece si tratta di locali dove si lavora quindi dove c'è c'è ingegneria c'è elettronica totalmente diverso allora questo ascensore normalmente può ospitare almeno trenta persone se non anche di più a volte si arriva anche a quaranta gli open day l'abbiamo riempito molto esatto e vedete invece adesso vedete adesso invece che vi farò vedere che ci sono sul pavimento dei segni dove dobbiamo metterci guardate non più di cinque persone quindi adesso mi metto qua davanti vi inquadro l'indicatore e ci perderemo un attimo come segnale e vi ritroverò sotto quando sono a meno due e la saremo praticamente come vi è discesa a circa più o meno meno novanta a tra un po' allora esatto quindi in questo momento Sonia sta appunto scendendo abbiamo questi due ascensori uno diciamo di sicurezza di diciamo di servizio che viene usato di meno viene usato in caso di evacuazione in caso di problemi e poi questo ascensore principale che appunto viene usato da tutti i tecnici e dalle viste in persona in genere come te vedete adesso stiamo scendendo quindi almeno due si trova comunque abbastanza in basso parliamo un attimo di questo sistema appunto del perché ci troviamo a meno 100 metri su terra probabilmente probabilmente Salvatore ne avvena già parlato io comunque faccio sempre queste domande in genere e la risposta diciamo non è tanto perché non è tanto perché diciamo l'acceleratore deve per forza stare su terra ad esempio in America degli acceleratori del Fermilab si trovano in superficie certo vengono schermati con del cemento chiaramente perché le radiazioni possono sempre essere un problema però in generale possono stare anche in superficie il problema è che Davide se posso permettermi anche perché il Fermilab sta all'interno di un parco naturale ci sono i bufali che girano dappertutto invece qua abbiamo un sacco di paesi francesi attorno quindi non possiamo diciamo circondare un po' di paesi francesi con 27 chilometri di cerchio e quindi si è deciso di costruire lo sottoterra il problema è che per 100 metri il terreno non è stabile quindi essenzialmente si è scesi fino a incontrare la roccia madre e quindi trovare una diciamo una piattaforma stabile poi questa zona diciamo non è sismica quindi è una piattaforma davvero stabile per il suo acceleratore che pensate ha una precisione di qualche millimetro quindi se c'è un piccolo movimento del terreno il nostro acceleratore se ci fosse un piccolo movimento sarebbe completamente diciamo stortato quindi abbiamo bisogno di avere una piattaforma stabile come la roccia madre che si trova in questo caso a meno 90 metri se posso interromperti sì poi dopo ti lascio la parola mentre io mostro la parte di elettronica ma qui così esco da questa sala vai 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 comunque io sono praticamente ufficialmente entrata nella zona sperimentale perché ufficialmente entrata perché probabilmente avete visto che siamo passati attraverso questa porta ecco l'ascensore che ve lo inquadro allora questa è ancora una zona di sicurezza cioè cosa vuol dire tutta la colonna dell'ascensore e questa zona e questa è una regola che vale per tutte queste zone equivalenti dove si scende all'LHC sono zone sopra pressurizzate vuol dire che di fatto protette da porte ignifughe come vedete qui si è salvi qualsiasi cosa succeda se ci dovesse essere un cortocircuito una perdita di gas qualsiasi cosa drop down thank you praticamente allora praticamente in questa maniera si è protetti quella è la zona diciamo così di sicurezza dove eventualmente in caso di evacuazione si deve aspettare qui siamo nella zona sperimentale alcune di queste foto rappresentano sono foto storiche non so se Salvatore ne ha fatta vedere qualcuna sono foto storiche che mostrano come è stato sceso l'esperimento in caverna perché una delle particolarità di CMS esattamente è quella che è stato costruito in superficie ve ne faccio vedere qualcuna non so Salvatore hai parlato anche dei reperti romani? no magari una cosa che ti vorrei far vedere torna alla foto dove c'è il tracciatore perché quella è una foto interessante aspetta ce ne stanno tante ce ne sono tante quella che hai fatto vedere dove c'è la ragazza ecco questa qui quella che dove c'è la ragazza allora per capirci questa è la parte del tracciatore di cui parlavo che sta proprio al centro del rivelatore questi che vedete sono gli anelli concentrici fatti con pannelli di silicio quindi quello che vi dicevo le particelle quando escono fuori da questi pannelli di silicio che vengono prodotte immaginate dove sta la testa di quell'operatrice che sta facendo una saldatura adesso e schizzano in maniera radiale le particelle per ogni strato che attraversano lasciano il puntino di cui vi parlavo prima qui vedete chiaramente tutti gli strati di questi cilindri concentrici ogni strato è un puntino tanti puntini vi permettono di individuare la traccia ognuno di quelle mattonelle che vedete lì che fa questa specie di piastrellata interna è un wafer di silicio che è grande circa 10 per 12 centimetri il silicio che avete nel vostro cellulare in tasca è grande meno di un millimetro per un millimetro quindi già capite la differenza tra questa tecnologia e quella che avete in tasca solo che questa tecnologia è già vecchia di più di 15 anni perché è stata costruita quando fuori si facevano ancora le fotografie con le macchine fotografiche con le pellicole che si sviluppavano per capirci allora giusto sì passo adesso oltre vi farò vedere praticamente la parte dove abbiamo sceso veramente l'esperimento qui ci sono altre foto storiche e questo è proprio l'inizio degli scavi che a un certo punto sono stati fermati perché si sono trovate ovviamente voi sapete che Giulio Cesare è passato da qua quindi c'erano i romani tracce romane e quindi hanno dovuto ovviamente è stato bloccato a causa dei beni culturali poi altri problemi dovuti a falde acquifere non so se ne hai parlato che sono si è dovuto congelare per poter continuare a scavare e poi mettere il cemento intorno e quindi questo è quanto un po' di storia dell'esperimento e io adesso quello che faccio entro nella sala dell'elettronica che ne abbiamo due una a questo livello una a livello superiore sul piano superiore contate che tra un piano e l'altro diciamo all'incirca grossolanamente ci sono dieci metri forse un po' di più ma diciamo siamo a meno 90 il livello inferiore che ho cercato di farvi vedere prima a meno 100 ci scenderò e abbiamo queste due sale che rappresentano il primo livello di filtraggio dei dati che appunto viene chiamato il trigger e un'altra particolarità penso che tu l'abbia detto Salvatore che ci è messo a soltanto due livelli di trigger di filtraggio di trigger allora io dico molto grazie perché non è non sono un esperta in questo campo sono piuttosto un'utilizzatrice allora normalmente diciamo un po' storicamente un po' perché cioè si è continuato sempre a fare così nel momento in cui si raccolgono i dati dalla caverna cioè direttamente dal rivelatore si deve fare un filtraggio dei dati mi viene tanto in mente quando si prendono le vongole e si devono sfurgare e togliere e togliere la sabbia tante volte per poterle mangiare viene fuori l'origine di pasto esatto quindi di fatto cioè i dati devono essere ripuliti e si deve mantenere soltanto ciò che è interessante altrimenti non si riesce veramente a lavorare perché la quantità è enorme allora per fare questo normalmente è un esperimento a vari livelli di filtraggio dove a mano a mano seleziona quello che interessa e tipicamente ce ne sono tre e vengono chiamati in maniera molto diciamo così anonima a livello 1 livello 2 livello 3 CMS credo che sia partito così per poi a un certo punto decidere di cambiare totalmente di averne soltanto 2 quello che viene chiamato il livello 1 che è rimasto che fa il primo filtraggio e quello che viene chiamato in inglese high level trigger cioè il livello e il filtraggio di alto livello che invece è in superficie quindi di fatto abbiamo queste due stanze che vedrete piene di armadi e di cavi vi lascerò descrivere perché ripeto cioè nel senso eh lascio a chi veramente ci mette le mani su CMS appunto per descrivere quindi Davide ti lascio la parola eh per poter anche perché c'è rumore dentro sì 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 chiaro esatto e quindi io non riesco veramente nemmeno tanto a sentire e però sappiate che senza questo filtraggio e senza questo passaggio di fatto i ricercatori non ricevono nulla quindi eh se c'è qualcuno che per caso ha il dubbio tra cosa voler fare il fisico teorico il fisico diciamo sperimentale eh io dico che in fondo oppure chi analizza i dati e chi costruisce fare l'ingegnere vi dico che questa è una sinergia unica non ci sono dati senza parte eh sperimentale elettronica non non ci non c'è parte elettronica se non si analizzano i dati quindi questo è veramente da dove noi riceviamo i dati lascio la parola a Davide grazie Sonia ehm esatto essenzialmente probabilmente Salvatore vi ha già parlato ma nel rivelatore eh le particelle non vengono viste semplicemente facendo delle foto ma essenzialmente vengono eh i sensori trasformano il passaggio delle particelle in quello che di solito è un impulso elettrico un segnale elettrico e questo segnale elettrico deve essere letto in qualche modo deve essere portato fuori dal rivelatore deve essere registrato e questo è esattamente quello che fa questa stanza è il nostro cervello del rivelatore tutti i cavi che vedete sono collegati alla caverna quella sperimentale che andremo a vedere dopo attraverso diciamo è collegata da un mur di cemento armato molto spesso e anche per proteggere diciamo la caverna dell'elettronica dalle radiazioni delle collisioni e questo cervello appunto avviene sia la lettura dei dati che il trigger come diceva Sonia e anche l'immagazzinamento cioè ogni scheda è come se andasse a leggere una piccola parte del nostro rivelatore ne raccogliesse le informazioni e ha un ritmo molto alto quello che noi chiamiamo rate che è pensate circa 25 nanosecondi abbiamo diciamo le collisioni ogni 25 nanosecondi quindi sono circa 40 megahertz quindi 40 milioni di volte al secondo avvengono delle collisioni noi leggiamo i dati estraiamo queste informazioni e poi le filtriamo perché non riusciamo a salvarle tutte e infine le inviamo in superficie dove abbiamo questo secondo livello di trigger il trigger appunto è il sistema che sceglie quale eventi salvare e questo secondo livello di trigger poi riduce ulteriormente il numero di eventi che salviamo a circa 100.000 eventi al secondo già che ci siamo parliamo di cosa scusami posso interromperti giusto un attimo per dire due cose veramente brevemente allora innanzitutto che vorrei come dire dire ancora ancora di più che probabilmente una visita virtuale può sembrare come dire non equivalente ad una visita fatta di persona e per certi versi è vero però vi ho inquadrato proprio il pannello dove c'era scritto che i visitatori non possono andare stiamo guadagnando in questa cosa cioè potrete vedere cose che se fosse stati qui di persona non avreste potuto vedere questa come prima cosa e seconda cosa ogni volta che vedete queste strisce arancioni che a volte si vedono gialle non so perché nello schermo arancioni vuol dire che nel caso si fosse obbligati a spegnere per perché non so perché c'è un incidente o perché bisogna comunque togliere l'alimentazione questi armati chiamiamoli così continuano a mantenere l'alimentazione quindi sono segnalati con queste bande per indicare che questa parte non viene spensa quindi questo è un segnale e i cavi rossi invece che vedrete tra un po' sono proprio i cavi che portano l'alimentazione vi farò notate il voltaggio che c'è scritto sopra di nuovo ti passo la parola grazie Sonia esatto quindi abbiamo diversi sistemi in questa stanza appunto abbiamo sia il DQ che la parte si occupa di acquisire i dati che il trigger cioè quella di sceglierli ma cos'è un evento giusto che magari ne abbiamo già parlato ma un evento in realtà che una collisione quindi il momento in cui si scontrano due pacchetti di protoni avvengono vengono emesse delle particelle secondarie che provengono da questa collisione e vengono passano attraverso il velatore noi ne vediamo i segnali elettrici e ricostruendoli in modo solisticato possiamo poi vedere quel evento diciamo quello che noi chiamiamo evento in più ci sono delle complicazioni perché in genere ogni volta che si incontrano due pacchetti di protoni non avviene solo una collisione ma ne avvengono circa 40 perché appunto dovete immaginare che passi un protone contro un altro protone ma ci sono pacchetti di protoni contro altri pacchetti di protoni quindi non se ne scontra solo uno ma se ne scontrano di più e questo è sia un problema che una buona cosa dal punto di vista vedete questi sono nel frattempo guardiamo anche quello che Sonia ci sta mostrando quindi questi sono vedete cavi che portano sia corrente che informazioni che fibre ottiche e in questo caso sono tagliati perché penso siano cavi di riserva questi sono i cavi per i nuovi rivelatori rpc che stanno costruendo che verranno montati i primi prototipi saranno montati a novembre e il resto sarà montato a fine 2023 approfitto di questo passaggio Davide scusami ti rubo la parola un attimo per far capire che i rivelatori di CMS è un rivelatore vivo è un rivelatore sempre in costruzione sempre in manutenzione sempre in aggiornamento come vedete ci sono degli armadi vuoti che sono stati già concepiti come armadi di riserva se ci dovesse venire in mente di fare qualcosa ad oggi abbiamo immesso qualcosa in mente e realizzato che sono le migliorie gli aggiornamenti del rivelatore che saranno costruiti in questi anni per capirci e poi ve ne parlerò dopo la visita CMS ha un piano di lavoro a oggi già definito almeno fino al 2045 e questo lo voglio sottolineare perché sono pochi i posti al mondo dove uno studente si può trovare un piano di lavoro ventennale o più che ventennale e questo capite che è un valore aggiunto anche per gli studenti dal punto di vista dei formamenti perché se tornano in Molise dopo aver lavorato al CERN per due o tre anni e hanno una apertura mentale per fare dei piani quinquennali decennali quindicennali ventennali questo può essere un valore aggiunto per aziende come la Molisana come la Fiat come realtà che esistono sul territorio perché acquisiscono delle persone che hanno le competenze anche dal punto di vista puramente logistico l'organizzativo che non sono facilmente acquisibili altrove Davide ti lascio la parola Allora Sonia ci sta indicando una attrezzatura di sicurezza che è la maschera d'ossigeno perché in caso di problemi ad esempio di perdite di gas perdite di azoto perdite di elio diversi gas che servono sia per il rivelatore che per il magnete può esserci una mancanza di ossigeno e quindi abbiamo in dotazione queste maschere che sono essenzialmente dei generatori di ossigeno in modo chimico diciamo viene generato e vengono quindi ci insegnano siamo diciamo come si dice alminati per utilizzare queste queste sacche di ossigeno d'emergenza in più Sonia ci sta anche mostrando il cosiddetto armadio rosso d'emergenza in cui ci sono queste maschere ed altre attrezzature di sicurezza e anche alcuni strumenti per misurare la radiazione residua nei come si dice negli oggetti che uno utilizza perché devono essere soprattutto misurati e monitorati prima di essere portati all'esterno e qua vedete ad esempio le tetraradio che sono delle radio che i tecnici e i fisici quando devono appunto lavorare sul detector devono diciamo portarsi appresso e che nel caso ci sia un incidente una persona diciamo rimanga stesa più di tot minuti queste radio sono anche in grado di inviare un diciamo segnale d'emergenza se posso interromperti Davide si appunto gli oggetti che tu hai descritto ora diciamo così non è che ogni volta che uno entra qui deve pensare che succeda una catastrofe ecco mettiamola così allora è ovvio che entrare in una zona sperimentale può determinare alcuni rischi quindi uno deve essere preparato all'eventualità quindi quando si entra qui ovviamente chi lavora perché un visitatore qui può venire ecco io mi sono fermata davanti a questa porta rossa perché effettivamente questo è il punto di connessione tra quella io sono scesa da quella scala dove c'era la sala la sala dell'elettronica e dove prima c'era l'ascensore e sono all'interno di quella che è chiamata la caverna di servizio dove sono messi tutti gli apparati di servizio cioè che servono per il funzionamento del rivelatore questo corridoio porterà invece alla caverna sperimentale dove c'è il rivelatore ora gli visitatori possono arrivare quando c'è il CMS in funzione fino a questo alla fine di questo corridoio allora mi piace dire che innanzitutto questa è una cosa speciale di CMS perché nessun esperimento quando è in funzione l'LHC permette ai visitatori per in persona di scendere qua sotto se qui si può fare è grazie a questa porta rossa perché? perché questa porta rossa che come vedete vi indicavo il profilo che vedete un po' arrotondato perché ricorda il tunnel dell'LHC effettivamente attraverso questa porta rossa se necessario si accede al tunnel dell'LHC ma non direttamente c'è un corridoio dove c'è di nuovo un ascensore di sicurezza con la zona di sicurezza come abbiamo detto prima e poi si accede alla zona sperimentale dell'LHC quindi di fatto questo corridoio e l'ascensore fungono da seconda da seconda diciamo via di fuga ok? se non si potesse usare la via di fuga dalla quale io sono entrata posso eventualmente uscire da qua chiaramente non è che è facile nel senso vedete la porta è piombata e come faccio a capire se io posso uscire di qui? allora se la zona dietro di me è libera chiaramente riprendo il cammino da cui sono entrata nel caso in cui qui c'è una striscia di led fosse accesa vuol dire che il pericolo viene da dietro questa porta quindi non bisogna aprirla se invece non c'è e l'altra parte alle mie spalle è bloccata sono autorizzata a rompere il sigillo e ad utilizzare l'altro ascensore quindi questa è una delle cose e gli tutti gli apparati che Davide vi stava descrivendo in effetti sono in dotazione di chi viene a lavorare che si deve portare questa scatolina che non è affatto leggera vi assicuro contiene tutto l'apparato che vi ho mostrato e noi come vi diceva anche Davide siamo allenati dobbiamo fare dei test ogni volta per poter per poterlo per poter mostrare che siamo capaci siamo allenati siamo allenati a dover aprire la scatola in circa 30 secondi e indossare la maschera e poi dobbiamo procedere come si dice sempre keep calm and proceed to the exit mantenete la karma e procedete all'uscita ecco questa è una bella foto dell'LFC un ragazzo chiedeva se aveva sentito della necessità di usare un dosimetro quindi c'è pericolo di i ponti di radiazione no e la stessa cosa Sonia Zoltan chiede Zoltan chiede di proseguire verso la caverna nel frattempo posso parlarne io sì 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 volevo solo mostrare dalle HC sorry vai vai sì allora diciamo la sorgente di radiazione principale proviene proprio dal fatto che siccome ci sono delle collisioni all'interno del rivelatore le particelle che escono da queste da queste diciamo collisioni interagiscono con i materiali circostanti e quindi li rendono instabili li attivano questa radiazione comunque è una radiazione che non è la stessa dell'esempio delle scorie nucleari è diversa perché dopo un po' di tempo questi materiali attivati decadono naturalmente e non sono più radioattivi quindi diciamo è una radiazione temporanea nel momento in cui ci sono nel momento in cui ci sono le collisioni non si può stare abbracciati a CMS perché non sarebbe proprio salutare ma appena appena viene spento il fascio anche dopo pochi giorni poche settimane è già possibile avvicinarsi al rivelatore chiaramente non è possibile aprirlo e guardarci all'interno perché lì ci vuole più tempo magari perché è stato irradiato di più quindi diciamo è per quello che noi usiamo dei dosimetri comunque per ragioni assicurative ragioni sanitarie dobbiamo sempre misurare quanta radiazione diciamo assumiamo ma il lavoratore medio al CERN non assume più radiazione di una normale dose annuale quindi per capirci è molto meno di quella di un tecnico di radiologia di un ospedale esatto esatto però comunque per un fatto normativo e di legge va fatto volevo approfittare Davide per dare un'informazione è molto meno del viaggio aereo Sonia se ti fermi un attimo e ti rigiri perché è importante questo passaggio che stai facendo questo semplice corridoio tutto bianco che separa le due zone che abbiamo la zona che abbiamo visto fino ad ora e la zona dove sta entrando Sonia è proprio vi dà l'idea dello spessore del muro di cemento armato che separa la galleria sperimentale dove entriamo adesso vediamo l'apparato di CMS rispetto alla galleria dei servizi dove è stata Sonia fino adesso dove ci stanno tutte le infrastrutture bassa tensione alta tensione fibre ottiche gas pompe sistemi per far funzionare CMS anche quando questa zona non è accessibile e quello vi dà la dimensione dello schermo di cemento armato di cui parlavamo prima adesso state vedendo in tempo reale quello che avreste visto se andavate sulla piattaforma dei visitatori è questa dove si trova adesso Sonia ci saremo fermati qui e questo CMS che adesso è aperto perché siamo in una fase di manutenzione cioè LHC fa tre anni di presa dati due anni di manutenzione tre anni di presa dati due anni di manutenzione adesso sono nel secondo periodo di manutenzione è stato fatto un primo run poi due anni di presa di manutenzione poi un secondo run adesso è il secondo set di due anni di manutenzione e quindi CMS è aperto ed è tutto in fase di aggiornamento miglioria il vantaggio come sottolineava Sonia che se venivate al CERN di persona e CMS era in fase di manutenzione saremmo arrivati qui altrimenti saremmo fermati davanti a quella porta gialla di prima e non andavamo oltre adesso invece il vantaggio è che con la visita virtuale il bello della visita comincia ora adesso entriamo nei posti dove normalmente entriamo solo noi addetti ai lavori ma non i visitatori mentre voi potrete vedere da vicino il magnete che è quel grosso cilindro che vedete argentato davanti a quella piattaforma gialla poi i rivelatori di moni quelli che vi ho fatto vedere prima rosso e argentato che sono fuori al magnete e dentro quella zona del magnete invece ci sta il tracciatore il calorimetro elettromagnetico il calorimetro adronico di cui parlavo prima e adesso CMS è una fase di manutenzione guarda si vede si si vai avanti si vede anche perché no no volevo solo dire che stiamo in una bellissima configurazione perché adesso si riesce a vedere anche un po' all'interno a volte non è così assolutamente riusciamo a vedere dove verrà infilata dove verrà rimesso il tubo dei fasci che normalmente in altre configurazioni non riusciamo a vedere quindi adesso io ho un'angolazione perfetta per poter far vedere l'interno e esattamente dove si infila il tubo dei fasci ecco se vuol dire questo ti lascio e proseguo lateralmente all'esperimento magari fai vedere anche il pozzo dall'alto visto che ti trovi lì non so se si vede meglio da qualche altra parte tanto adesso salgo salgo sopra e lo mostro meglio perfetto nel frattempo ci sono altre domande mentre lei sale posso anche cercare di rispondere nel frattempo vediamo mi chiedono quali dati vengono scartati e quali salvati ok una risposta breve è che quando si scontano due protoni possono avvenire tantissime cose diverse in verità diciamo il numero di processi di base che avvengono sono molto pochi e sono dati dal modello standard sono diciamo noti ma avvengono con diverse probabilità quindi avvengono sempre processi diciamo in un set finito ma con probabilità diversa ad esempio il fatto che due protoni si avvicinino si tocchino leggermente e si allontanino senza interagire molto è una cosa molto probabile cioè la maggior parte delle volte succede così magari questi protoni deviano un pochino entrano nel nostro rivelatore quindi vengono visti ma non ci interessano perché la chiamiamo cosiddetta collisione elastica cioè non non avviene qualcosa di interessante altre volte invece i protoni interagiscono di più allora viene creato un bosone W ad esempio che genera un elettrone energetico allora in quel caso invece siamo interessati perché è un processo più raro ma già conosciuto però più raro e potrebbe che usiamo diciamo studiamo per approfondire la nostra conoscenza del modello standard e quindi ad esempio quando c'è un elettrone energetico quello è un evento che ci interessa quindi il nostro sistema di trigger è fatto in modo tale da riconoscere se c'è un elettrone energetico un fotone energetico una combinazione di getti di particelle abbastanza energetica cioè essenzialmente abbiamo dei criteri di rarità cioè più un evento ci sembra raro interessante più cerchiamo di salvarlo mentre le cose diciamo più note quindi quelle a bassa energia oppure le interazioni poco poco diciamo che producono poche particelle diciamo cerchiamo di scartarle perché se no saremmo completamente assorbiti da questi eventi che non ci diciamo non ci servono adesso direi di tornare a seguire Sonia vedete che si sta spostando in questa diciamo selva di cavi e rack e fibre ottiche e devo fare un po' una gincana adesso vedrete in alcune parti immagino che Salvatore nella sua presentazione abbia detto che il rivelatore misura lateralmente diciamo un cilindro io amo moltissimo i confronti amo moltissimo i confronti con il cibo ed è una viennetta a mio avviso una viennetta divisa a fette e la lunghezza di questa viennetta è all'incirca venticinque metri quindi io sto facendo avanti e dietro questi venticinque metri e in altezza il diametro questa bella fetta di viennetta è all'incirca quindici metri in termini di palazzi venticinque metri un palazzo all'incirca di otto piani e quindici metri un palazzo all'incirca cinque piani bene ovviamente un po' di fiatone data l'età come ho detto Davide prima sono arrivate in alto sono arrivate in alto non sono ancora in alto in alto però sono abbastanza in alto guardate la stessa visione di prima vista da qui bellissimo e quindi cerco di portarvela in basso eccola qua salvatore il microfono mutato tornando alla viennetta di Sonia questo è uno dei tappi della viennetta immaginate la viennetta con un grosso cilindro per capirci che ha due tappi uno a destra e uno a sinistra il cilindro è messo coricato in orizzontale la parte centrale del cilindro è fatta a fette che si aprono e chiudono anche loro i tappi quello di destra e quello di sinistra sono anche loro stessi fatti da quattro fette che si aprono e quella che vedete adesso è la fetta più interna quindi tutto il tappo e tutte e quattro le fette è stato spostato adesso Sonia qui si muoverà mano a mano e vedrete le singole fette della parte centrale del cilindro che sono state tutte concepite per essere apribili e chiudibili e questo voglio sottolineare che è un unicum di CMS cioè prima di CMS gli esperimenti si facevano in maniera statica cioè si montavano si assiamavano e rimanivano fessi così come erano CMS è stato anche molto criticato trent'anni fa quando è stato concepito in questo modo perché concepire un oggetto che deve avere precisioni micrometriche che sia apribile e chiudibile ci dicevano voi siete pazzi perché una volta che l'avete montato poi lo volete aprire e richiudere e mantenere queste precisioni e invece si è visto Salvatore scusami giusto per dire che sto salendo a cavallo della vignetta di una fetta sta salendo una delle fette della zona centrale del nostro cilindro ci sono due domande sul finanziamento adesso sono in alto arrivo prima delle domande quello che volevo dire che adesso questa possibilità di apertura e chiusura si sta dimostrando un'arma vincente di CMS perché chiaramente se io ho un cilindro grosso monolite diventa difficile fare la manutenzione e Atlas per dire che l'esperimento competitore che è stato fatto con una soluzione un po' intermedia rispetto alla nostra cioè è molto più monolitico e molte parti sono apribili ma molte meno parti rispetto a CMS si deve entrare dentro a modo di speleologo per raggiungere delle zone e cambiare dei cavi rotti o sostituire delle cose in CMS invece io apro le mie fette e ogni fette diventa apribile completamente ci posso andare avanti con dei carrelli elevatori come quelli che utilizza il personale dell'Enel per strada per intenderci e questo poi mi permette di parallelizzare anche cioè se io apro otto fette contemporaneamente posso avere otto squadre di lavoro in otto punti diversi e quindi faccio le stesse cose molto più rapidamente mentre poi è comunque importantissimo anche poi chiuderlo perché quando poi invece prendiamo i dati scusami se ti ho interrotto Salvatore quando poi prendiamo i dati volevo dire che è importante che sia chiuso perché spesso non diciamo a noi fare una banalità ma è meglio sempre magari non è una cosa nota pensate se se ci fosse un buco e una particella passasse di lì noi non sapremmo che è passata di lì la particella quindi essenzialmente è fondamentale che coprire completamente il cosiddetto angolo solido cioè tutto il volume giusto avere diciamo perché molto spesso si fanno domande ad esempio sulla materia oscura sulle particelle nuove che non abbiamo ancora visto se noi non avessimo non coprissimo tutto il più possibile dello spazio ad esempio potrebbe succedere che una particella che non conosciamo passa di lì e noi non lo sappiamo e anzi molto spesso noi usiamo questa proprietà del fatto di essere completamente coprenti per misurare la cosiddetta energia mancante cioè noi facciamo la somma vettoriale avete fatto Davide la somma vettoriale un secondo fisco la somma vettoriale delle particelle e quello che manca è qualcosa che manca che può essere un neutrino è così che è stato scoperto il neutrino o potrebbe essere ad esempio qualche particella che ancora non conosciamo una particella nuova che non è visibile che però porta via un pezzo di energia che non si trova nella somma del A4P greco di tutta l'energia messa in gioco dalla collisione scusate se vi interrompo scusate se vi interrompo visto che mi devo muovere perché altrimenti non riesco ad andare giù volevo solo confermare quello che stavate dicendo io mi trovo su una fetta e la fetta successiva è quella che sto indicando con il dito ok dall'altro lato che è aperta che avete visto prima da quest'altra parte la fetta successiva provo a indicarla si vede soltanto la parte superiore e quella dove c'è quella parte verde in alto ora io cerco di andare velocemente lì per mostrarvi il buco e poi scendo velocemente giù e per capirci però per essere ancora più precisi questa zona nella quale stanno muovendo adesso Noemi e Sonia sono già a loro volta cinque fette compattate se vedete dove sta scendendo adesso Noemi c'è una scala parallela a destra e una scala parallela a sinistra che sono cinque fette del cilindro compattate già chiuse che fanno la zona centrale del cilindro quelle che vi indicava Sonia prima invece sono le fette dei tappi che sono a lato destro e al lato sinistro che sono a loro volta quattro fette compattate tra di loro e messe tutte insieme adesso siamo praticamente al penultimo piano in alto di questo edificio adesso si ritrova di nuovo tra la zona del cilindro e la zona del tappo e riscenderà giù per farci vedere la parte sottostante del rivelatore tutti questi tubi che vedete tutta questa roba che vedete sono tutti sistemi di ventilazione di areazione perché ovviamente questa caverna va tenuta a temperature umidità controllata vanno garantite delle condizioni di funzionamento perché immaginate come un motore particolare che deve essere tutto tenuto controllato che funzioni nelle condizioni ottimali non ci sia nulla che si sorriscaldi o nulla che si sorraffreddi pensate che abbiamo alcuni pezzi che devono essere tenuti magari anche vicino allo zero sotto lo zero ad esempio non sono sicuro del tracker ma è comunque una temperatura abbastanza bassa e a contatto col tracker poi abbiamo il calorimetro magnetico che è cal che invece ad esempio è di 18 gradi quindi bisogna tenere l'umidità controllata diciamo se no si forma la condensa allora riprendo un attimo la parola per cercare di mostrarvi il buco da cui è stato scesa sono state scese le fette per ricomporre CMS eccolo qua vi ho fatto vedere una sequenza fotografica della discesa questo è il buco che vedevate aperto sopra e adesso aperto sotto come vedete aperto sia sopra che sotto in questa fase di manutenzione anche per un fatto di ventilazione in questa fase per garantire una circolazione di aria corretta allora quello che io vorrei far vedere adesso mi sposto da qui perché voglio andare almeno 100 allora vorrei far vedere in termini pratici qual era la distanza tra la parete del buco e di fatto il diametro della struttura di ciascuna fetta cioè dove finisce questa parte verde ok che è la la fine della della di ciascuna fetta allora vi faccio vedere se è vero che non si deve fare lo speleologo speleologo salvatore però bisogna essere abbastanza agili perché qua di ginnastica se ne fa ma noi le guide per questo le selezioniamo anche con una selezione in allora vi faccio vedere un attimo semplicemente la distanza è questa qui e poi scendo immediatamente sotto eccola qua la distanza riuscite a prendere la mia mano? certo è un oggetto di 1500 tonnellate un unicum costruito da 3000 persone con progettazione ventennale che si muove con 10 cm a destra e 10 cm a sinistra quando scende in questo cilindro e per questo come dicevo quella discesa è stata fatta con molta cautela e quindi per fare 100 metri ci sono volute circa 10 ore che si scendeva col carro ponte piano piano con tutta una serie di sismografi montati a bordo per misurare anche le vibrazioni e che non ci fossero degli shock che potessero causare che dei tubi si sconettevano oppure dei cavi si rovinavano ovviamente tutto questo con estrema precisione Salvatore hai detto che le gru venivano da Genova dai nostri porti di Genova no non l'ho detto sono delle gru che sono venute dall'Italia che hanno un'enorme esperienza per spostare degli oggetti di grosse dimensioni di grosso peso sono quelle che sono utilizzate per montare per esempio i prefabbricati delle dighe o i pezzi dei ponti mi pare anche lo stadio per i mondiali di calcio in Sudafrica bravo bravo scusate arresto generale di urgenza per togliere per togliere l'alimentazione che vi devo tranne che negli armadi con i pannelli con le strisce arancioni allarme evacuazione chiunque autorizzato a rompere questo vetro e appiggiare il bottone se necessario scendo giù io risponderei nel frattempo a qualche domanda poi allora quelle diciamo quelle più su magari non so la fisica in generale o sui finanziamenti possiamo parlare dopo perché adesso stiamo cercando di seguire appunto la parte sul detector per rimanere in tema però quindi possiamo rispondere all'esempio all'ultima quando si aprono le fette il tubo centrale di collisione si smonta o rimane lì? no quando si aprono si toglie perché questo tubo centrale è un tubo di berillio estremamente delicato ed estremamente costoso ed estremamente sottile perché berillio? perché se non sbaglio noi abbiamo bisogno di un tubo comunque per cercare di mantenere il vuoto all'interno del passaggio dove passano i protoni dobbiamo mantenere il vuoto ma abbiamo bisogno che questo tubo non interagisca diciamo con le particelle che escono dal punto di interazione quindi deve essere il più sottile possibile il più inerte possibile al passaggio delle particelle quindi non possiamo farlo di cristalli cintillanti dobbiamo farlo di un materiale adesso non sono un esperto ma probabilmente il berillio è un buon materiale per fare ciò il berillio se ti posso interrompere è anche molto leggero è uno dei primi elementi della tavola periodica quindi permette alle particelle di passare praticamente è inerte e quindi di fatto riusciamo a vedere quello che è successo dentro perché non non cambia il risultato e posso dirti anche una cosa perché questo sulla mia esperienza personale ogni volta quando abbiamo i brevi break durante la presa dati il tubo rimane lo togliamo solo nell'ultene quando sono i long come adesso altrimenti si potrebbe vedere il tubo dei fasci che adesso invece non vediamo scusa continuo a prendere un attimo la parola perché adesso sono a meno cento quindi vedete la stessa cosa che avete visto prima dell'alto adesso la vedete dal basso e se non avete le dimensioni non si riescono a vedere adesso chiedo gentilmente Noemi can I use you as a yeah a scale you you are how much are you tall allora Noemi è uno e settanta ok centosettanta centimetri adesso si trova di fatto guardate vicino ad un piede di CMS quello che io chiamo un piede di CMS guardate dove è Noemi ok la sua altezza è esattamente come un piede e questi che io chiamo i piedi che sono gli airpads sono effettivamente guardate connessi con dei tubi e sono esattamente gli oggetti che permettono a queste famose fette di essere avvicinate o allontanate in che maniera guardate ci sono dei misuratori di pressione in effetti quello che si fa si pompa dell'aria dentro quindi si solleva leggermente ovviamente non in aria ma si alleggerisce se vogliamo il peso della fetta e poi con dei macchinari non questo in particolare ma simili diciamo così la fetta viene spinta in una direzione o nell'altra adesso Noemi quello che sta facendo vi sta mostrando eccolo qua sta usando degli oggetti degli aspettate mi avvicino degli strumenti scientifici estremamente costosi adesso ve li mostro per mostrarvi che gli oggetti quando anche quando il campo magnetico del nostro magnete non è acceso perché qui abbiamo quattro tesla dentro eh lascia i professori poi di dire quattro tesla quant'è ma è veramente un bel po' adesso ovviamente non è acceso se no non ci potremmo stare ma rimane un campo magnetico residuo di stere sì ciclo di stere sì qualcuno magari se lo ricorda ecco gli oggetti estremamente costosi che stiamo usando per fare fisica e mostrarvi la magnetizzazione riuscite a vederli? in Francia li chiamano i trombon in Italia le graffette non so come ragazzi la fisica si fa con niente veramente tanto costosi infatti guardate voglio dire che è vero che CMS è costoso è vero che l'LHC ha bisogno di soldi ma per come dire appassionarsi e divertirsi con la fisica non serve non serve tanto eccola qua d'altra parte la fisica è semplicemente la traduzione della parola greca natura quindi che cosa vogliamo di più ok io proseguo vi lascio la parola mi sembra non so se l'hai già detto ma questi piedi appunto che si basano sull'aria servono per spostare le fette e davvero in quattro persone diciamo quattro tecnici possono spingere queste fette di molti tonnellate e spostarle manualmente quindi però oltre al fatto che sono facili da spostare in verità sono allineate benissimo se sogna poi inquadrarci ad esempio i bollini di calibrazione ci sono questi bollini in moltissimi punti di queste fette che diciamo prima di essere chiuse nel momento in cui stanno per essere chiuse vengono illuminate con un particolare con dei laser con dei puntatori laser più sofisticati con dei punti geodetici per misurare esattamente la posizione del detector chiaramente sono quei si vedono tu che lo sai l'ho visto ma non ho lo zoom io no non c'è problema comunque sono tantissimi quei puntini penso quelli bianchi forse però sono un po' i punti si vedono dovrebbe essere questo credo sì questo bollino qua sopra dovrebbe essere però io non ho lo zoom quindi non posso farvi pensate che chiaramente io vi dicevo che la roccia madre è molto stabile però nel senso comunque del movimento immaginatevi che noi siamo sensibili ai movimenti di pochi millimetri e c'è messa negli anni si sta spostando e anche perché queste due caverne che abbiamo visto sono collegate da questo da questo muro di 20 metri 25 metri di cemento armato ed è come se fluttuasse all'interno del terreno e pensate che siccome c'è messa si sta spostando verso il basso e i tubi di LHC verso l'alto noi man mano dobbiamo diciamo sistemare i piedini dei collimatori possiamo immaginarci in questo modo in modo tale che il fascio continui a scontarsi al centro perché immaginate anche solo avere uno scostamento di un centimetro oltre al fatto che non ci porta più ad avere le collisioni nel centro del rivelatore e quindi abbiamo un problema di sbilanciamento non va bene ma abbiamo anche il problema che se le collisioni vengono troppo vicine al tracker poi iniziamo a bruciare i pixel della nostra macchina fotografica quindi è fondamentale che l'allineamento sia corretto sì allora se ti posso interrompere giusto perché tra un pochino io esco volevo dire semplicemente che al di sotto del rivelatore ci sono ancora due piani dove c'è tutta la parte di elettronica e altre cose di servizio per il rivelatore stesso che comunque restano in caverna e per quanto riguarda l'allineamento che tu dicevi è un po' come i sistemi di allineamento che servono per monitorare gli spostamenti nelle gallerie avete mai visto quei puntini rossi che ogni tanto si accendono sono effettivamente per monitorare che la struttura è stabile e giusto per fare un paragone che concerne proprio me per AMS io mi sono anche occupata del sistema di allineamento proprio del tracciatore attraverso fasci laser effettivamente ogni tanto questo diciamo così questi fasci laser vengono iniettati nel tracciatore e si verifica che non ci siano state degli spostamenti nella struttura perché AMS stando sulla stazione spaziale chiaramente orbita intorno alla Terra e quindi passa delle zone di ombra e delle zone estremamente calde perché è al sole e la struttura pur essendo fatta di materiale che dovrebbe essere poco sensibile alle variazioni di temperatura chiaramente subisce delle variazioni che sono state misurate di al massimo trenta micron ma quando voi volete misurare delle cose a livello di cinque micron o anche di più è chiaro che trenta micron sono un'enormità e quindi bisogna fare questo monitoraggio che diceva Davide perfettamente quindi questo è qualcosa che si fa qui a CMS sulla Terra che si fa praticamente in tutti i rivelatori di precisione in particolare di particelle io lascio la caverna sperimentale quindi dico ciao per voi a CMS e mi avvio verso un altro ascensore per uscire e tornare in sala di controllo io volevo rispondere nel frattempo ad alcune domande quando parliamo di raccolta dati di quanto parliamo questo è interessante perché come vi dicevo ci sono diversi livelli in cui filtriamo i dati e dopo il primo livello anzi scusate ok il numero che ho in mente è dopo il secondo livello cioè proprio quelli che noi salviamo su disco e pensate che prima di essere poi comunque compressi sono circa quando tutti i detector stanno leggendo i dati sono circa 6 gigabyte al secondo cosa del genere e quindi pensate il punto è che questi sono solo quelli che sono stati filtrati sono 100.000 al secondo e abbiamo circa quella diciamo che danno in totale 6 gigabyte pensate se sono stati già filtrati un sacco di volte perché all'inizio avevamo 40 milioni di eventi al secondo ne salviamo 100.000 pensate per quello che serve un trigger perché noi non potremo mai con le fibre ottiche che abbiamo fare in tempo a leggere tutte le informazioni ogni volta ogni evento pensate che il trigger è così sofisticato che alcune informazioni vengono create e tenute in memoria su delle schede elettroniche che sono all'interno del rivelatore vengono mandate fuori solamente alcune informazioni diciamo diciamo di aggregate e il nostro trigger grazie a quelle informazioni decide in pochi microsecondi se salvare o no quelle informazioni e solamente per gli eventi che decide di salvare vengono lette ed estratte le informazioni questo perché se no non avremmo almeno con la tecnologia degli anni 90 non avremmo avuto abbastanza banda per far passare tutti quei bit pensate che per quello che facciamo gli upgrade come diceva Salvatore perché grazie agli upgrade ad esempio ECAL i rivelatori dove sto lavorando io grazie agli upgrade delle schede elettroniche nel 2025 potremo invece di portare fuori solamente un evento ogni tot potremo portare fuori a ogni collisione tutte le informazioni perché avremo delle fibrottiche nuove quindi questo è l'avanzamento tecnologico che ci permette quasi nel senso quasi facilmente questa volta di migliorare il nostro rivelatore anche perché c'è un po' questo discorso cioè la fisica delle porticelle è sempre stato un po' il cavallo cioè diciamo il traino di tutto un settore tecnologico che è le fibre ottiche le schede elettroniche i magneti la superconduttività e diciamo il CERN è ancora a capo di questa è ancora a guida ancora questa innovazione però c'è da dire che rispetto magari agli anni 90 e 2000 adesso comunque c'è moltissimo anche sviluppo tecnologico nelle aziende diciamo esterno comunque al mondo della fisica particelle ma comunque per noi va benissimo perché riusciamo a sfruttare queste nuove tecnologie anche senza doverle magari inventare tutte da noi perché dovete comunque sapere che CMS è stato costruito con tecnologie che sono state praticamente inventate per costruire CMS e che poi sono comunque state diciamo utilizzate anche per ambiti civili industriali quindi che dici Davide scusa ti interrompo risponde anche a una domanda fatta prima il contributo del CERN alle nuove teorie di fisica quantistica non solo sì sì esatto cioè le teorie di fisica quantistica sono chiaramente quello che ci spinge a fare questo lavoro cioè è quello che ci spinge a fare questa ricerca ma non è che nel senso il prodotto di questa ricerca è anche un prodotto tecnologico ed è anche un miglioramento generale degli nostri strumenti ed è questo di cui si parla spesso troppo poco come sono queste le famose ricadute della ricerca di base che sembrano sempre parole astratte ma che in verità sono pratiche sono fibre sono schede migliori sono corrente che viene usata in modo più efficiente quindi in verità è molto più diciamo gli effetti sono molto più grandi di quanto pensiamo cioè di quanto si possa pensare il CERN è un proprio centro di elaborazione da PC il CERN ha un cosiddetto tier zero poi non so se Salvatore ne ha già parlato ma il CERN ha costruito negli anni quando ancora non c'era negli anni 2000 quando ancora il cosiddetto cloud non era ancora sviluppato noi avevamo già il nostro cloud la cosiddetta grid che è un modello di computing distribuito in cui tutte le università del mondo tutte quelle che partecipano a CMS hanno dei propri server dei propri centri di calcolo che sono connessi tra di loro e scambiano informazioni ci permettono a noi ricercatori a noi dottorandi di leggere gli eventi i file necessari per fare la nostra analisi dai server di tutto il mondo questa è la tecnologia che è stata praticamente creata ai tempi per noi anche il web se ci pensate è stato creato per sfondere le informazioni per i ricercatori del CERN e poi dopo chiaramente si è diffuso e ora diciamo questa è un po' l'origine ora chiaramente come vi dicevo anche prima le soluzioni cloud sono molto sviluppate abbiamo Google abbiamo Amazon e quindi anche noi ora ci stiamo comunque aggiornando stiamo migliorando le nostre capacità di calcolo e stiamo anche collaborando con i giganti del cloud per sfruttare a volte per alcuni task specifici magari queste infrastrutture però per la maggior parte del tempo noi abbiamo la nostra rete di università all'Italia ad esempio l'INFN ha un grosso centro di calcolo e le varie università poi hanno centri di calcolo più piccoli ma e questo ci permette di essere indipendenti comunque dalle aziende private in questo caso quindi siamo comunque abbiamo la nostra base forte di calcolo improprio ciao Sonia è stata su velocemente una corsa la banda la banda di quanto si parla 10 gigabit al secondo secondo me di più non so il numero non è facile rispondere a questa domanda perché per capirci ci sono molte fibre che sono in collegamento da sopra a sotto cioè immaginate che ogni fibra ha svariati gigabit per capirci il wifi del CERN è un gigabit in upload e in download da ormai già da da 5 anni per capirci ed è in fase di upgrading la trasmissione dati degli esperimenti è diversa dalla trasmissione dati del collegamento di un utente con la banda ethernet in ufficio per capirci però l'esperimento forse non si è visto mentre Sonia scendeva ma ci sono dei fasci di fibre ottiche che passano da sotto a sopra e ognuna di quelle fibre lavora a qualche gigabit per second quindi per capirci l'esperimento di portare su una marea di dati che passano per quel filtraggio che diceva Davide prima cioè tu prendi dati grezzi molti dati vengono filtrati in maniera hardware in quello che è chiamato che insomma ha definito il trigger di primo livello o il filtro di primo livello trigger vuol dire una parola inglese che vuol dire grilletto è come se faccio un grilletto per sparare con una pistola quindi ogni volta che premo il grilletto ho creato un evento allora a un certo punto io voglio capire quanti di questi grilletti di questi trigger sono non interessanti e quanti invece sono interessanti e quindi devo fare questo prefiltraggio per scendere di ordini di grandezza e quindi per passare dai terabyte per second che non potrei essere in grado di gestire a passare a ordini di grandezza e ordini di grandezza perché alla fine voglio stoccare dei terabyte di roba anche perché tutti quelli che vengono salvati quei 6 gigabyte vengono salvati per sempre cioè non ne cancelliamo più neanche uno però dovete capire che questa è ovviamente una fase estremamente delicata del tutto il progetto perché non devo rischiare di buttare roba interessante e una cosa che vorrei sottolineare che come giustamente aveva anche accennato prima Davide è chiaro che noi con l'apparato sperimentale possiamo vedere tutta una serie di eventi e di cose note nel senso previste dalla teoria ma mai viste prima e quindi ci sono una serie di scenari di forme di tracce di eventi di interazioni che la teoria aveva previsto ma nessuno aveva mai visto prima come il bosone di Higgs il professor Higgs l'aveva concepito 50 anni fa bella teoria interessante fammi vedere un bosone di Higgs e poi ci credo noi l'abbiamo dimostrato e quindi il premio Nobel a LHC agli esperimenti CMS e LHC perché hanno visto il bosone di Higgs però c'è anche tutto un altro aspetto che è altrettanto e forse ancora più affascinante che è la possibilità di vedere delle cose mai viste prima ma neanche previste dalla teoria e quindi scoprire delle cose che possono completamente sovvertire le nostre conoscenze e il modo in cui vediamo la materia che ci circonda e quindi capite che questo specialmente per degli studenti che hanno poco più qualche anno più di voi Davide a pochi anni più di voi si trovano a essere per primi a mettere le mani su dei dati grezzi e a fare delle analisi dei dati per poter capire se c'è qualcosa di interessante o no e quindi vedere quello che si sta fotografando e registrando con questa macchina che è un'unica al mondo Salvatore se mi permetti di dire ci sono anche dei programmi per studenti che chiaramente non sono ormai dati già presi ma dati veri di CMS e non solo che sono le famose masterclass dove di fatto gli studenti devono riconoscere degli eventi di fisica raccolti dagli esperimenti quindi dati veri e poi analizzarli esattamente alla stessa maniera come fanno appunto i ricercatori che poi fondamentalmente appunto sono studenti di dottorato come Davide perché sono quelli sono la vera forza lavoro e poi noi diamo esatto poi noi diamo le scoperte a volte ai grandi capi che è vero che hanno pensato ma in realtà chi veramente poi fa il lavoro e l'analisi dati sono gli studenti e sono questo lo dico per i professori sono delle giornate che si organizzano e poi normalmente quello che si fa si fa la masterclass e poi ci si vede il pomeriggio e si confrontano i propri risultati si discutono insieme ad altri istituti sparsi in tutto il mondo quindi ci si ritrova a parlare non so con il sud tedesco con uno dell'Iran con uno con uno indiano con uno americano e si confrontano i dati e si fanno un po' di analisi quindi anche mettere le mani su dati veri benché non siano dati ancora siano dati ormai riconosciuti perché si sa già quello che si mette dentro ma sono gli studenti che non lo sanno è qualcosa che gli studenti di scuola superiore possono fare quindi se fosse interessati ci sono questi programmi da cui potete partecipare grazie grazie mille vi ringrazio per la visita per l'accuratezza con cui ci avete portato dentro dentro l'esperimento direi ci si sente piccoli davanti a una cosa del genere però ci si sente anche grandi io infatti che insomma che ci sia avanti qualcuno che pensa che progetta che fa tutto questo è proprio bello mi sento di insomma di dire questa cosa e quindi i nostri giovani sicuramente vedo che hanno interagito qualcuno fino alla fine qualcuno ha abbandonato la nostra visita ma ne abbiamo ancora quattrocentotrenta collegati che mi sembra già un risultato Barbara se tu mi permetti vorrei spendere veramente gli ultimi cinque dieci minuti se loro ne hanno ancora voglia però ditemelo espressamente se siete stanchi io mi fermo qui altrimenti vi direi giusto proprio qualche ultima trasparenza sulle caratteristiche delle applicazioni diciamo le ricadute applicative di questi di questi di questa tecnologia sì sì io ascolterei volentieri perché vorrei prima che tu continui posso soltanto dire una cosa probabilmente ci possono essere visto che stiamo parlando con scuole superiori quindi con ragazzi che ancora non hanno scelto il loro percorso non è detto che si debba diventare per forza fisici per fare questo ci si può essere anche dei buoni tecnici noi abbiamo dei tecnici ottimi io ve lo posso dire dal mio punto di vista io se per esempio io ho lavorato nella produzione dei silici cioè veramente come costruire un tracciatore accanto a dei tecnici che ovviamente avevano più esperienza di me quando io facevo il mio dottorato io ho imparato da loro e sono dei tecnici sopraffini che ovviamente non hanno seguito il percorso classico di un ricercatore che fa ovviamente prende la laurea poi fa il suo dottorato e continua ci sono anche percorsi più brevi ma altrettanto validi e che possono introdurre in questo mondo quindi magari voglio dire non è che bisogna per forza seguire il percorso del ricercatore ma si può avere veramente l'occasione di lavorare in posti di questo genere anche facendo un percorso più breve volevo sottolineare visto che ho detto anche della sicurezza noi abbiamo delle squadre sopraffine di pompieri molti italiani che sono specializzati per le problematiche che ci sono qui a Serna e ne abbiamo ce ne sono normalmente sono francesi, italiani e spagnoli non so perché ma sono tutti così abbiamo il capo della sicurezza CMS di italiano per esempio perfetto vado allora rapidamente vi voglio far vedere giusto qualche fotografia di CMS perché abbiamo parlato di queste fotografie però penso sia opportuno farvene vedere qualcuna e poi concludo con le trasferimenti tecnologici allora questa è una carrellata delle date chiave di CMS CMS nel 2011 ha cominciato ad avere i primi segnali di possibile presenza di un bosone di X perché non è che ne basta che ne vedo uno ma devo vedere quello che si chiama un eccesso di segnale cioè devo vedere un picco di un accumulo di roba che è tutta uguale nel 2012 è stata dichiarata la scoperta del bosone di X come vi dicevo il 13-14 è stato il primo stop tecnico dal 2015 al 18 è stato il secondo run di collisioni che sono salite a 13-14 tera elettronvolt quindi vuol dire a 7 più 7 nel punto di collisioni e adesso siamo nella fase del secondo stop tecnico l'anno prossimo LHC dovrebbe ripartire con il run 3 sempre con collisioni a 14 Tesla 14 tera elettronvolt dopodiché avremo il terzo stop tecnico e così via vorrei sottolineare quello che avevo detto prima che LHC oggi ha già un programma almeno fino al 2040 quindi c'è anche è molto lavoro per le prossime generazioni e quindi capite che c'è spazio per molti di voi cioè è un'opportunità concreta Davide è una prova tangibile è un'opportunità concreta per fare un dottorato per continuare con delle borse post doc e per eventualmente applicare anche a delle posizioni successive a meglio termine o a tempo indeterminato per capire quello che dicevamo prima durante la nostra collisione quindi abbiamo capito che fondamentalmente noi facciamo sbattere queste particelle quello che facciamo produciamo dei cosetti bosoni di Higgs e poi vediamo le tracce dei bosoni di Higgs allora che cosa vuol dire vedere un bosone di Higgs allora qui abbiamo schematicamente due protoni che sbattono uno contro l'altro producono il mio bosone di Higgs che però vive pochissimo e poi decade in qualcos'altro in questo caso è l'Higgs che decade in due fotoni quindi due particelle che sono completamente neutre che mi danno questi due picchi nel calorimetro elettromagnetico vedete tutte queste tracce curvate all'interno del tracciatore di cui parlavo prima con il campo magnetico questi invece sono i due fotoni che mi danno due picchi rossi nel calorimetro elettromagnetico che mi dicono ho trovato una particella che aveva una massa di circa 100 giga elettronvolt ordine di grandezza questo è lo stesso evento rivisto in formato 3D le due particelle collidono una contro l'altra e mi producono questi due picchi che sono i miei due gamma i miei due fotoni oppure l'Higgs può produrre due Z quindi due di quegli altri bosoni che abbiamo visto prima per l'interazione della forza debole che a loro volta decadono in due muoni quindi produco l'Higgs l'Higgs produce un Z un altro Z e poi lo Z1 mi produce due muoni lo Z2 mi produce un altro due muoni nel mio rivelatore vedrò quattro tracce che escono fuori dai calorimetri vedi queste quattro sono i quattro muoni e che mi permettono di dire che la particella che le generate aveva una massa intorno a 150 giga elettronvolt quindi sto cominciando a capire che quello che mi produce sta roba è intorno dalla 100 a 150 giga elettronvolt stesso evento rivisto in formazione tridimensionale qui vediamo invece un filmato di un evento di una collisione questo è un evento vero non è un cartone animato questi sono i due pacchetti blu di protoni che si attraversano e produco le due collisioni che mi danno i quattro muoni che vi dicevo prima che vediamo le quattro particelle registrate dal rivelatore di muoni analogamente un altro evento in cui invece ho i due fotoni ho i due pacchetti di protoni che si interagiscono tra di loro i fotoni che non lasciano niente nel tracciatore sono neutri vedete questi puntini e poi rilasciano questo blog di energia dentro il calorimetro elettromagnetico analogamente un altro evento invece in cui il mio bosone di chi si produce quattro elettroni i pacchetti di protoni che si attraversano collidono e mi tradurono quattro tracce belle nitide chiare che mi lasciano un rilascio di energia come i fotoni di prima nel calorimetro elettromagnetico questi sono tutti eventi rilasciati da LHC in CMS è stato difficile e complesso nel 2012 qui vedete Fabiola Gianotti all'epoca rappresentante dell'esperimento Atlas e Joe Ingandela il rappresentante dell'esperimento CMS che fanno la presentazione all'auditorium della scoperta qui vedete il bosone di Higgs il professor Higgs era presente e qui lo vedete che abbraccia Fabiola Gianotti nel luglio 2012 l'anno successivo ritirare il premio Nobel a Stoccolma lui come ideatore di questa teoria e il CERN ovviamente come LHC CMS Atlas come comprovatori di questa teoria quindi per capirci CMS è come quella finestra nell'inesplorato voglio andare a guardare al di là delle stelle a me questa immagine questa icona piace tantissimo perché ci permette di capire se dietro le stelle ci sia qualcosa che illumini e faccia vedere questi puntini illuminati dietro questo tappeto traforato ci porta per la prima volta in territori inesplorati e ci permette di scoprire cose nuove quello che volevo sottolineare è quello che ho detto prima cioè che però tutto questo ci permette di capire bene meglio l'energia la materia lo spazio che ci circonda però con i primi run abbiamo già preso un premio Nobel e capito una serie di cose però per capirci il gioco è appena cominciato cioè una delle domande è che cosa volete cercare adesso ci sono la ricerca di particelle supersimmetriche che sarebbero un altro come vi ho fatto vedere le antiparticelle prima ci sono anche le super particelle che nessuno ha mai visto ci sono studi ulteriori sull'antimateria perché posso produrre tanta antimateria posso capire meglio il bilancio tra materia presente e cosiddetta materia oscura o energia oscura per quello che ci siamo detti è la stessa cosa parla di materia o energia per quello che vi avevo detto prima tutte queste sono scoperte di possibili fenomeni già previsti dalla teoria ma mai visti prima però la cosa più affascinante è questo che noi potremmo anche scoprire tante cose e tanti fenomeni che sono del tutto inattesi che nessun teorico ha mai concepito e che la macchina potrebbe svelarci all'improvviso concludo con delle rigature tecnologiche che sono veramente poche trasparenze allora a che cosa serve questa fisica delle particelle perché chiaramente molte le domande erano ma quanto costa ma quanto costa come ho scritto alcune delle domande LHC è costato 7 miliardi di franchi svizzeri CMS è costato circa un miliardo di franchi svizzeri un miliardo vuol dire mille milioni di franchi svizzeri questi sono costi enormi ma perché non prendete questi soldi al posto di studiare la fisica delle particelle e ci studiamo alla ricerca per sconfiggere il cancro o per studiare problematiche contro il covid domini allora voglio dimostrare che questa questo investimento aiuta anche nella vita di tutti i giorni a portare avanti tante ricerche che non sono di base ma sono ricerche applicative che portano a dei risultati concreti nell'immediato allora qui c'è di nuovo il capellone che abbiamo visto all'inizio nella prima trasparenza del pigreco dei Albert Einstein ha concepito un qualcosa che all'epoca sembrava del tutto inutile la relatività dire che l'orologio il concetto di tempo non è un concetto assoluto ma è un concetto relativo dipende da come mi muovo e quanto veloce vado se mi muovo a velocità non relativistica il mio orologio gira a una certa velocità quindi il tempo scorre in un certo modo se mi avvicino alla velocità della luce il tempo rallenta va più lento guardate questa sembra una cosa molto fantasiosa oggi immaginate concepirla cent'anni fa è anormale che non l'abbiano preso non l'abbiano internato in un ospedale psichiatrico l'hanno provato voglio dire ci avranno provato sicuramente allora oggi per capirci il famoso paradosso dei gemelli se prendo due gemelli uno lo lascio sulla terra un altro lo metto su una navicella spaziale che si muove alla velocità della luce e si fa un viaggio per un anno un anno di orologio terrestre si muove alla velocità della luce quando quell'oggetto torna sulla terra il gemello che si è mosso sulla particella è più giovane rispetto al gemello che ritrova sulla terra perché il suo tempo è andato più lentamente quindi le sue cellule si sono imbecchiate di meno questo è un concetto che sembrerebbe un assurdo della conseguenza della relatività ma che cosa assurda ma figurati se è vero ma è impossibile ebbene tanto per essere chiari tutti noi abbiamo un cellulare in tasca con un gps che ci fa fare la navigazione satellitare la navigazione satellitare è ottenuta tramite delle triangolazioni di segnali elettromagnetici tra il nostro punto e i satelliti che circolano circolano attorno la terra in modo geostazionario allora queste situazioni come ci permettono di geolocalggiarsi io faccio la triangolazione tra la mia posizione del satellite 1 la mia posizione del satellite 2 la mia posizione del satellite 3 vedo l'intersezione di questi segnali andate e ritorno andate e ritorno e dico tu stai qua con la precisione di più o meno un metro se in questo calcolo nel software del vostro gps nel vostro telefonino non si applicasse la correzione relativistica di quanto tempo ci mette il segnale elettromagnetico che si muove la velocità della luce tra me e il satellite questa triangolazione non convergerebbe mai basterebbero pochi passi che il gps perderebbe la mia posizione quindi questo per farvi capire come la relatività che sembra una cosa completamente assurda serve a mettere a punto ed è impostata nel software dei gps altrimenti non funzionerebbero i navigatori analogamente all'elettromagnetismo quando Maxwell ha concepito le leggi dell'elettromagnetismo sembravano delle cose completamente inutili oggi tutto ciò che facciamo via wifi via cordless tutto ciò che trasmette onde elettromagnetiche su antenne è basato su una teoria che è data più di 200 anni quindi capite che sono tutte ricerche di base che ha spinto l'innovazione a fare cose che magari sono avvenute successivamente nel piano applicativo gli acceleratori di particelle oggi nel mondo ci sono circa 17.000 acceleratori più della metà sono utilizzati per applicazioni medicali per trattare dei tumori in maniera localizzata e puntuale uno è anche in Italia il CNAO il centro nazionale di adoperatria oncologica a Pavia e serve per trattare per bombardare le cellule tumorali in maniera precisa e puntuale senza danneggiare i tessuti circostanti al tumore analogamente i rivelatori della PET avrete sentito parlare spesso di TAC risonanza magnetica la PET sta per positron emission tomography positron sta per positrone vi ricordo che il positrone ve ne abbiamo parlato circa due ore fa era l'antiparticella dell'elettrone quindi quando a campo basso qualcuno si va a fare una PET utilizza l'antimateria quindi l'antimateria non è qualcosa di così astruso e teorico ma si utilizza semplicemente perché nel corpo di questo povero paziente che se si fa una PET vuol dire che sicuramente qualche problema potenzialmente di natura oncologica disinietta dell'acqua e zucchero per capirci una soluzione fisiologica del glucosio che però è agganciato a delle particelle radioattive a del fuoro degli isotopi di fuoro che decadono come abbiamo discusso prima con il decadimento spontaneo delle particelle per le forze deboli e queste particelle producono questo è il colpo del paziente che sta sul lettino producono due fotoni che vengono rivelati da questa specie di lavatrice che è costituita da tanti cristalli che vi faranno ricordare il calorimetro elettromagnetico di CMS cioè questo oggetto è il nipote del nipote del nipote del calorimetro di CMS qui ci stanno gli stessi cristalli che stanno in CMS per vedere i fotoni prodotti delle collisioni dell'HC qua dentro qui invece quello che facciamo quello che produce le tracce è il paziente perché il paziente emette coppie di fotoni e queste coppie di fotoni sono emesse dagli atomi di fluoro che sono messi insieme allo zucchero quello che vi permette di fare la PET è di diagnosticare la presenza di un tumore prima che si crei la massa tumorale cioè per capirci per le ragazze che sono presenti quando si parla del tumore al seno si consiglia spesso di tastare di palpare il seno perché se ci si sentono dei granellini delle pietre nel seno è un qualcosa di anomalo perché il seno è fatto da tessuti molli non ci sono delle ossa dentro però capite che quando si comincia a fare un granellino quando si comincia a fare una pietra vuol dire che c'è un tessuto già anomalo che già ha fatto una dimensione macroscopica se io invece al posto di vedere il tessuto con un attacco con una radiografia o con un'ecografia faccio una PET io sto vedendo non il grumo di tessuto troppo denso ma vedo le singole cellule che ancora non hanno fatto il grumo ma che già cominciano a mangiare troppo perché io quando inietto l'acqua e zucchero nel sangue sto dando da mangiare come le galline in un cortile e alle cellule dove ci sono delle cellule troppo voraci c'è un addensamento di zucchero se quello zucchero è radiattivo mi emette delle coppie di fotoni e quei fotoni li vedo con la mia PET quindi a quel punto posso vedere che in quel seno magari c'è un punto estremamente luminoso che mi fa vedere delle cellule estremamente voraci ben prima che si faccia il grumo che mi indica un tumore che magari invece è uno stato avanzato che poi prevede un intervento chirurgico la rimozione dei linfonodi la rimozione del seno invece in questo caso basta fare un'iniezione chemioterapica locale e distruggo quelle poche cellule che ho visto in fasi estremamente embrionali ebbene questa è la prima immagine di una PET fatta al CERN del 1975 che era il concetto base che poi ha portato le PET che oggi abbiamo in tutti gli ospedali quindi se oggi a Campobasso c'è una macchina PET della Siemens o della General Electric perché nel 1975 al CERN c'era una banda di pazzi che cercava di vedere dei positroni con delle immagini attraverso dei cristalli tipo quelli del calorimetro di CMS io sono arrivato al CERN nel 1989 questo documento è datato esattamente il mese che sono arrivato io marzo 1989 io arrivavo e Tim Bernsley che pochi di voi immagino conoscono finiva il suo dottorato al CERN questo signore ha fatto questa tesi che è di dottorato che era per il trasferimento dati tra gli edifici del CERN non tramite cavi tramite dati messi con dei robot che caricavano i dati su delle macchine centrali alle quali io mi collegavo con un terminale ma mettendo questi dati sempre disponibili su una banca dati sempre accessibili che si chiamava un protocollo HTTP che tutti oggi conosciamo ebbene questo protocollo che è nato per trasferire e gestire i dati in tempo reale al CERN perché mentre fuori si lavorava con il Commodore 64 dove 64 stava per 64k byte al CERN si gestivano già i gigabyte nell'89 come oggi al CERN si gestiscono migliaia di tera quando fuori invece avere un hard disk da 2 tera già è una cosa diciamo fenomenale allora capite che questo vi fa capire come quello che diceva prima Sonia al CERN ci sono anche delle figure professionali Tim Bernsley non aveva nessuna competenza di fisica delle particelle però aveva sicuramente delle competenze di ingegneria informatica di computer science e quindi ha costruito e concepito un sistema un protocollo che poi sappiamo tutti che cosa ha fatto e che piccoli effetti collaterali ha avuto sulla vita di tutti i giorni quindi per concludere la nostra giornata e il nostro seminario e la nostra visita per la quale non terminerò mai di ringraziare Davide Sonia Zoltan e Noemi che cosa facciamo al CERN al CERN facciamo quella che si chiama ricerca di base ricerca di base che vuol dire ricerca della fisica delle particelle elementari con qualche piccola ricaduta diciamo in vari settori tecnologici però mi permetto anche di sottolineare un ultimo aspetto già oggi avete visto che nella nostra breve piccola riunione ci sono due ungheresi e tre italiani al CERN se venite a lavorare o a fare una visita al CERN uno stage al CERN e andate alla mensa trovate degli indiani dei musulmani delle persone buddiste indipendente delle persone di colore scuro di pelle di razze diverse il CERN è anche un villaggio globale nel quale si abbattono tutte le barriere culturali e ci si toglie tutte le forme di pregiudizi io lavoro a Napoli dove a Napoli il pakistano è quello che vende le cover degli iPhone abusive a Biachiaia e quando arrivano le guardie scappa via con la sua bancarella da ambulante abusivo al CERN io gestisco un gruppo nel quale ci sono tre pakistani di cui due hanno fatto il dottorato a Oxford e hanno vinto una borsa di studio al CERN semplicemente perché sono bravi e uno di questi due ha il padre che è pastore ma pastore non nel senso di pastore protestante pastore nel senso che c'ha le capre che porta le capre a pascolare nelle pianure attorno a Islamabad questo ve lo voglio sottolineare perché non è vero che ci sono dei pregiudizi non è vero che ci sono delle raccomandazioni non è vero che ci sono dei percorsi preferenziali al CERN esiste un aspetto importante che si chiama meritocrazia le persone vanno avanti perché sono selezionate in base a quello che sanno fare indipendentemente da come si chiamano da che cognome hanno che colore di pelle hanno da dove vengono e da chi li sponsorizza anzi se Salvatore Buontempo o Sonia Natale o Davide dovesse mettere una buona parola per qualcuno di voi per avere un ostaggio al CERN sarebbe un effetto controproducente perché non vi metterebbe in buona luce rispetto ai criteri selettivi il CERN ha un valore è importante enorme per questo punto di vista e vorrei sottolinearlo perché questo specialmente in questa fase della delicata del mondo che viviamo in cui ci sono anche ragazzi della vostra età che si mettono delle cinture esplosive premono dei pulsanti all'urlo di Allah Akbar penso che sia importante invece continuare a togliere queste barriere e far capire che il Pakistano certe volte di fisica e di matematica ne può sapere molto più di te e se è musulmano non vuol dire necessariamente che sia un terrorista che si vuole lasciare esplodere per motivi di fondamentalismo al CERN cerchiamo di scoprire cose nuove utilizzando particelle acceleratori e tecnologie spero però che la nostra visita vi abbia anche dimostrato che fondamentalmente ci divertiamo perché avete visto che sia Zolta Noemi Sonia Davido io siamo qui adesso a farvi un seminario a titolo del tutto gratuito perché ci piace farlo e perché ci piace stimolarvi allora io spero che queste tre ore trascorse assieme che sono state un po' più lunghe del periodo del previsto vi abbiano almeno incuriosito e vi abbiano aiutato anche a superare questi momenti di dad a termoli in zona rossa che non è così facilmente da digerire grazie ancora per la vostra attenzione allora sicuramente ci hanno incuriosito parlo a nome mio e a nome di insomma di chi è rimasto fino alla fine 264 sì infatti ringraziamo il biennio che finirà a mezzogiorno esatto questo però è un arrivederci perché abbiamo iniziato questa collaborazione e noi speravamo l'anno scorso di venire ed era tutto già programmato in realtà il nostro viaggio è saltato 3 marzo ancora me lo tengo segnato era previsto parlo a nome anche dei ragazzi più piccoli che insomma arriveranno al quinto anno l'anno scorso dovevano venire Termoli Vasto Riccia e Campobasso e tutti sono stati ovviamente annullati per i giochi esatto mi hanno contattato dal Molise ci sono tante tante scolaresche che continuano a essere in contatto col CERN e penso che questo sia un aspetto importante cioè io spero che il messaggio che vi sia passato che il CERN non è per gli studenti di Londra Parigi New York Los Angeles ma è anche per quelli di Rocca Vivara Boiano e di Vasto ma se posso permettermi Salvatore volevo dire solo una cosa che in effetti però se poi andiamo a vedere e questo bisogna ringraziare gli insegnanti i gruppi italiani quando c'è l'attività normale perché appunto cioè io dicevo tanti studenti cioè essendo anche parte del gruppo delle visite sono tantissimi tant'è che c'è sempre una fila lunghissima gli insegnanti lunghissima gli insegnanti lo sapranno non si riesce a prenotarsi proprio perché effettivamente grazie agli insegnanti che comunque stimolano sempre i ragazzi li vogliono portare qui al CERN e se posso parlare anche a nome di quelli che ricevono i ragazzi qui anche a noi manca il contatto con i ragazzi a me personalmente lo dico a me manca il fatto di vedere uno studente magari all'inizio delle due ore di mattinata o tre ore che siano di visita con l'occhio annoiato o stanco perché non ha dormito perché ovviamente in gita non si dorme e vederlo invece vivo vispo pimpante prendo di domande dopo tre ore è qualcosa che per quelli che concepiscono la ricerca come me come immagino Davide e Salvatore altrimenti non saremmo qui che è un passaggio di informazioni è un condividere le informazioni cioè quello che si scopre la gioia è condividerla con gli altri e dare passione anche agli altri e questo a noi manca per il CERN cioè adesso manca tantissimo certo 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 assolutamente vedo che ci sono c'è un qualche domanda alla quale forse non ho ancora fatto tempo a rispondere una in merito all'ecografia la mammografia la PET la PET sicuramente è un esame diciamo fatto anche per screening preliminari e quindi però ovviamente questo viene dettato da decisioni di natura puramente medicale quindi è il medico che decide se e quanto è necessario fare una PET però è chiaro che uno screening di PET fatto in larga scala sul territorio è un'azione di prevenzione e quindi come si fa adesso l'ecografia per le donne a partire da una certa età è chiaro che si sta pensando anche di poter considerare di fare delle PET a partire da una certa età però bisogna considerare che ovviamente ne puoi fare tante in funzione di quante PET hai a disposizione sul territorio e quanti pazienti oncologici invece devi già trattare con quelle PET quindi per questo il fatto di costruire degli apparati sempre più performanti e sempre più economici permette la facilitazione della diffusione di questi apparati sul territorio e quindi di poterle fare con una maggiore facilità è chiaro che dieci anni fa non c'era la PET a Campobasso per farsi la PET si doveva andare la sala Raffaele a Milano oggi da un po' di anni c'è la PET a Campobasso se non mi sbaglio anche la Neuromed quindi la presenza sul territorio facilita anche l'accessibilità a certi tipi di servizi Salvatore se mi permetti anche di dire una cosa c'è da sottolineare che la PET non è solamente utile ovviamente per determinare fare lo screening dal punto di vista dei tumori ma per esempio la PET anche in situazioni non di sospetto permette di vedere proprio per quello che spiegavi tu le zone di attività permette per esempio di monitorare quali sono le parti del cervello che funzionano o no quando stiamo facendo delle attività e questo chiaramente ai ricercatori soprattutto che trattano l'Alzheimer il Parkinson permette di capire dove sono i danni e dove sono le zone che non funzionano quando uno è affetto da queste malattie e chiaramente aiuta la ricerca in quel settore quindi se voglio dire l'impatto è enorme non vorrei abusare del tempo però la PET io ne ho parlato della PET che è nata prevalentemente per natura oncologica però ci sono tutta una serie di farmaci fatti apposta di radiofarmaci adesso mirati per problematiche neurologiche per problematiche cardiologiche quindi adesso si comincia a mirare anche a tutta una serie di problematiche specifiche e ci sono anche poi degli studi tramite la PET anche dei cosiddetti radiofarmaci cioè considerate che oggi stiamo parlando di mezzi di contrasto radioattivi quindi per vedere e diagnosticare un problema altro problema invece è curare il problema allora si sono creati e io sono veramente molto fiero di aver facilitato l'installazione a Pozzilli quindi vicino Venafro di una delle aziende leader al mondo di questo settore che si chiama la 3A la Advanced Accelerator Application che è stata uno spin off del CERN che è nato da un mio carissimo amico che l'ha creato a San Genitui vicino al CERN oggi questa azienda è stata acquistita dalla Novartis per darvi un ordine di grandezza per la modica cifra di 4 miliardi di dollari quindi stiamo parlando di un'aziendina che ha circa una trentina di siti a livello mondiale e ce n'è uno a Venafro tanto perché buoni siate a conoscenza questa azienda produce dei radiofarmaci non dei mezzi di contrasto radioattivi cioè che vuol dire che si fanno dei farmaci radioattivi per curare certi tipi di problematiche e monitorare il paziente durante la cura per capire come recepisce quel farmaco questa è la cosiddetta medicina personalizzata ti faccio un farmaco ad hoc per te che non vale per una persona che ha lo stesso problema ma che magari ha una età diversa una problematica diversa una genesi diversa allora questa è una nuova medicina e facilitare l'installazione sul territorio di realtà che fanno queste cose innovative tecnologiche io sono molto orgoglioso di averlo fatto nel mio Molise perché penso che possa facilitare che dei giovani molisani possano andare a lavorare anche alla 3A Novartis a Pozzilli e poi magari fare un salto di qualità e creare cose innovative che oggi non sappiamo neanche concepire allora per capire questo punto di vista sì vedo un messaggio a maggior ragione bisogna investire nella ricerca sì è vero speriamo che questa cosa avvenga e le persone le capiscano Draghi mi sembra che ha cominciato col piede giusto e sta cominciando a parlare in maniera concreta di queste cose Cingolani è sicuramente una persona competente che ha creato l'Istituto Italiano di Tecnologia a Genova è una persona che ha lavorato in Leonardo quindi sicuramente stiamo mettendo le persone competenti ai posti competenti che hanno le sensibilità adatte per capire quanti sono quanto sono importanti questi investimenti per tornare a un'altra delle domande quanto è costato tutto questo l'Italia ha partecipato in maniera importante in CMS però per darvi un ordine di grandezza l'Italia ha fatto un bilancio con il governo Monchi che si voleva vedere per i vari investimenti scientifici quanto rendevano dal punto di vista anche di ritorno economico cioè non me ne frega se vinci il premio Nobel e scopri il bosone ma se do un euro per questo tipo di ricerca quanto me ne ritorna come bandi e acquisti e materiali e appalti e gare vinte da aziende italiane ebbene il governo Monchi ha fatto questo bilancio e mediamente tutte le università italiane avevano un valore tra 0,6 e 0,5 le migliori vuol dire per un euro investito ne tornavano 0,5 o 0,6 di ritorno l'Istituto Nazionale di Fisica Negolare del quale mi freggio di far parte ha subito il conteggio tre volte perché il conto che veniva fuori era 3,75 cioè che voleva dire per ogni euro che investi in questo settore ne ritornano 3,75 che vuol dire che hai un ritorno del 370% quindi anche se non te ne frega niente il bosone di Fisica non te ne frega niente di formare le persone non te ne frega niente di abbattere le problematiche razziale e culturale se lo fai semplicemente per puro investimento alla Jeff Bezos metto un euro e dopo un anno me ne ritornano 3,75 sono pochi gli investimenti anche giocando in borsa che vi permettono di avere in un anno un ritorno del 3,75% quindi questo dimostra ancora quanto è più idiota il fatto di non investire in questo settore perché paradossalmente ci guagneremo perché faremo lavorare aziende come quella del Carroponte che abbiamo visto prima l'Ansaldo che ha fatto i magneti delle HC o così via quindi è chiaro che c'è un'importanza di attivare una sensibilità per gli investimenti in questo settore nei settori in generale della alta tecnologia anche perché io vivo da anni la frustrazione di formare dei giovani bravi e brillanti come Davide dopodiché farli fingere una borsa di dottorato una borsa postdoc poi mettere su un bellissimo piatto d'argento infiocchettarli e regalarli ai nostri competitor coreani americani cinesi francesi tedeschi che poi ti chiamano e dicono però caspita com'è bravo Davide veramente bravissimo e noi sappiamo che invece in Italia gli potremo dare pochissime prospettive ebbene stiamo lavorando perché questo non avvenga io nel mio piccolo vi informo che ho attivato a fine 2018 una convenzione che si sta ancora firmando per farvi capire tra l'INFN la regione Molise e il CERN per finanziare dieci borse di studio per molisani meritevoli giovani bravi non perché conoscono Salvatore Bontemo ma perché sono bravi e perché vengono a fare delle borse di studio al CERN per un anno e poi l'obiettivo è farli tornare in Molise facilitare il loro inserimento sul territorio perché le aziende locali molisane possono avere una defiscalizzazione per inquadrarli e loro portano un valore aggiunto su quello che hanno imparato di fisica hanno imparato di creogenia di trasmissione dati di analisi dei dati di planning di gestione e questa è una spinta concreta per il territorio perché come ho detto in una delle conferenze che ho fatto anche alla regione molise di fronte ai rappresentanti della comunità europea io penso che quelli di voi che hanno visto che hanno visitato la Silicon Valley la cosa più frustrante è sentire tutti gli accenti che si parlano a Mellon Park o a Palo Alto senti parlare napoletano siciliano torinese veneziano per le strade e vi assicuro che la Silicon Valley è veramente un postaccio dove andare a vivere non c'è niente di bello non è la California di Baywatcher dove la gente va a fare il surf sa al di là nella baia di San Francisco all'interno fuori quando si va sull'oceano ci stanno i leoni marini perché l'acqua è congelata e ti devi mettere la muta se vuoi andare a fare il surf eppure lì ci vanno semplicemente per un motivo perché la gente gli finanzia le idee quindi come ho detto in Molise io I have a dream mi piacerebbe avere anche una Biferno Valley in cui qualcuno può venire a investire e se i ragazzi locali hanno delle idee le finanziano e gli fanno fare qualcosa ci stiamo provando nel nostro piccolo incrociamo le dita combattiamo contro la burocrazia speriamo che qualcosa ne venga fuori io ci sono grazie ci proviamo insieme noi sul campo tutti i giorni e voi da dove siete bene vi saluto grazie professore ringrazio Davide ringrazio Sonia e auguro buon lavoro a voi due e ringrazio tutti quelli che hanno ascoltato fino a questo punto ringrazio il dottor Buontempo a risentirci e a rivederci è una provvista rivederci a Vallo grazie grazie arrivederci grazie grazie